Possiamo cominciare, abbiamo finalmente il via libera, tutti i relatori sono collegati e soprattutto è collegato il ministro Dario Franceschini che nuovamente ringrazio per l'attenzione e partecipazione. Io in brevissime parole ho il gradito compito di introdurre questo incontro che è stato organizzato da una serie di istituzioni, alcuni istituti del ministero, l'Istituto Centrale Archivi a nome del quale io parlo, l'Archivio Centrale dello Stato, l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri e l'Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e Società Contemporanea Giorgio Agosti. Abbiamo mantenuto fede a questo impegno che è stato preso in occasione della prima presentazione della prima parte delle schede che è stata resa consultabile in occasione del 75esimo anniversario della liberazione, quindi lo scorso 25 aprile in pieno lockdown. In quella data si era annunciato appunto che il portale sarebbe stato accessibile con le altre schede, in quel momento ce n'erano circa 200.000 consultabili, ma lo sono state ripeto soltanto per una settimana, sarebbe stato accessibile a settembre. Purtroppo gli eventi che tutti conoscete ci hanno costretto a spostare questa data ad oggi. Si pensava quando abbiamo cominciato ad organizzare chiedendo appunto al Ministro la partecipazione di fare un evento anche in presenza, avevamo anche pensato alla Sala Spadolini, l'attuale perdurare dell'emergenza sanitaria ci porta a farlo soltanto online. Però ecco l'importante per noi era mantenere fede a questo impegno preso, rispettare questa data del 15 dicembre per presentare attualmente a tutti voi la situazione dei lavori e di nuovo l'apertura del portale. Questa giornata prevede appunto una breve introduzione con i saluti istituzionali e poi la seconda parte con il professor Paolo Pizzino che introdurrà le relazioni, relazioni che ci faranno entrare nel merito, quindi presenteranno i lavori archivistici e già gli esiti che i medesimi hanno sulla ricerca storica. Io non mi dilungo di più perché c'è chi dirà queste cose molto meglio di me tra i relatori, voglio sottolineare soltanto due aspetti di questo progetto. È un progetto veramente articolato, teso alla conoscenza e valorizzazione che comprende una serie di attività, la digitalizzazione, il riordinamento archivistico, la creazione di una banca dati nazionale strutturata perché si è partito dallo studio di tracciati, di schede diverse che dovevano essere in qualche maniera uniformate. Tutto ciò è confluito in un portale che è già accessibile, che oltre allo schedario vero e proprio comprende anche delle altre sezioni interessantissime, è veramente una restituzione delle fonti storiche e di questa pagina di storia. Come si è riusciti ad arrivare a questo risultato? Con una strategia che già dall'inizio, in questo caso il ringraziamento va soprattutto al dottor Vitali che è stato diciamo colui che con l'ICAR ha dato impulso a questo progetto, con una strategia che ha puntato subito su delle collaborazioni strategiche. Non a caso per l'avvio del progetto sono state sottoscritte degli accordi di collaborazione con la Scuola Normale di Pisa, con l'Istituto Parri, con l'Istoretto di Torino e ultima, questa insomma ci tengo a sottolinearla, poi ne parlerà l'Archivio Centrale, tra ICAR e Archivio Centrale dello Stato. Quindi i due istituti, l'ICAR che ha promosso il progetto, l'Archivio Centrale dello Stato che conserva, come verrà poi detto, questo preziosissimo fondo archivistico che hanno diciamo sottoscritto a fine 2019 una convenzione in base alla quale ecco si porteranno avanti i lavori di riordinamento dell'intero fondo oltre lo schedario. Quindi noi non possiamo che augurarci che questo valore aggiunto della collaborazione, della sinergia finora messa in atto possa continuare e si possa continuare a presentarvi i risultati di questa attività e a questo punto mi taccio perché ho parlato anche troppo e do la parola al Ministro Franceschini per il suo saluto. Prego Ministro. Grazie a voi davvero, grazie a tutte le istituzioni e gli istituti che hanno collaborato a arrivare a questa giornata che è l'avvio di un percorso, non è la conclusione, è l'avvio di un percorso sulla base anche dei risultati straordinari raggiunti che hanno integrato, come abbiamo sentito adesso, diverse competenze. È una grande sfida quella che abbiamo in Italia della digitalizzazione del nostro patrimonio infinito, degli archivi, delle biblioteche, degli istituti culturali. Anche per questo il progetto della Digital Library del Ministero punta a raccordare questo straordinario lavoro archivistico che è stato fatto dai nostri istituti e da molte istituzioni private e non pubbliche. È davvero un lavoro preziosissimo, importante, che durerà del tempo, richiederà risorse, ma che dobbiamo fare. In tutto questo, fatemi dire, particolarmente importante è questo progetto, conservare la memoria, conservare le storie individuali di persone che hanno reso possibile nel nostro paese, la democrazia, la Costituzione, che hanno lottato, sacrificando se stessi molto spesso, sacrificando la vita e che trasmettono a noi un messaggio straordinario di valore in un momento in cui abbiamo un grande bisogno per affrontare le sfide di questo tempo. Quindi davvero è un modo per conservare la memoria, che si collega anche con quel progetto su cui stiamo lavorando, già finanziato, del Museo Nazionale della Resistenza a Milano, che è già finanziato, già individuato il luogo, che andrà avanti e che diventerà un altro luogo di conservazione della memoria, mettendo in rete, quindi so che tra i promotori di questo incontro c'è anche l'Istituto Parri, cui la legge originaria fida a gran parte di questi compiti, di avere il luogo di conservazione della memoria e di trasmissione della memoria alle giovani generazioni, perché c'era un grande bisogno. Passano gli anni, la resistenza a noi che quando eravamo ragazzi sembrava una cosa molto vicina, molto vissuta, perché l'avevano fatti i nostri padri. Adesso sembra più lontano nel tempo, quindi c'è un grande bisogno di conservazione della memoria e di trasmissione della memoria. Quindi grazie davvero, bellissimo progetto, continueremo a lavorarci e continueremo a supportarlo. Grazie. Grazie a lei Ministro per queste parole di apprezzamento, che effettivamente colgono proprio la sostanza più importante di questo progetto. Lavorare sulle fonti archivistiche per valorizzarle e per mettere alla disposizione della ricerca storica, ma in generale della crescita culturale e sociale di tutti noi. I risultati che finora si stanno raggiungendo insomma ci ci incoraggiano veramente. Quindi io a questo punto, ringraziandolo di nuovo, darei la parola alla direzione, al direttore generale per gli archivi, la dottoressa Anna Maria Buzzi. Ringrazio della sua partecipazione nonostante i tanti impegni che si accavallano in queste giornate. Ricordo che l'avvio del progetto è stato resa possibile proprio grazie al sostegno finanziario che la direzione generale degli archivi diede nella fase di avvio dei lavori. Quindi insomma un grazie particolare per tutto il sostegno che c'è, è stato sempre assicurato dalla direzione generale archivi e prego dottoressa Buzzi, ecco se vuole. Grazie, io tra poco purtroppo devo scollegarmi, fatemi consentire, questo per ringraziare tutti voi, ringraziare la dottoressa Buzzi che sta facendo veramente un bellissimo lavoro con la direzione generale archivi. Grazie, grazie. Grazie Ministro e le sue parole sono di incoraggiamento, sono di incoraggiamento anche perché questo è uno dei primi portali che stiamo portando all'attenzione dell'utenza e stiamo cercando di far riscoprire. Sono ben sette i portali sui quali la direzione generale archivi sta concentrando la sua attenzione proprio per quel ricordo che c'è di fondamentale importanza soprattutto per le nuove generazioni che vivono un momento di sbandamento come quello attuale. Come diceva il Ministro per noi è più facile ricordare la resistenza perché i nostri genitori l'avevano fatta e questo è il caso il padre del Ministro fu un partigiano cattolico. È molto meno facile per i giovani che attratti da un mondo digitale non sanno e non hanno più avuto quell'opportunità di ritornare su certe vicende del passato con le quali in questo modo questo portale che oggi viene reso accessibile alla popolazione a seguito di una registrazione con un modo di appunto che è quello più vicino ai giovani forse sarà anche per loro più facile scoprire quello che è stata la guerra di liberazione nel nostro paese. Un ringraziamento va al soprintendente all'archivio centrale dello Stato al direttore dell'istituto centrale per gli archivi per aver voluto segnare così con questo momento di incontro pubblico insieme all'istituto nazionale Ferruccio Parri e alla scuola normale superiore all'istituto Giorgio Agosti che hanno voluto con noi come Ministero portare avanti questo progetto. L'impegno della direzione come dicevo è importante non soltanto su questo dei portali ma ne abbiamo altri sette che sono antenati, territori, musica, moda, impresa, carte da legare, rete per non dimenticare. Progetti che abbiamo portato avanti insieme anche con l'istituto centrale per gli archivi. L'importanza di queste schede mi sembra che siano state dette abbondantemente sia dalla dottoressa Reale ma anche l'importanza dei fascicoli personali che erano conservati in questo archivio ricomparto, il fondo che venne poi riversato all'archivio centrale dello Stato e che conserva la documentazione prodotta dalle commissioni istituite nell'immediato dopo guerra e dalla commissione unica nazionale istituita nel 68 in fondo che apparteneva al Ministero della Tività. Quindi l'importanza di riscoprire questi documenti e di rendere noti ad un pubblico vasto è uno degli obiettivi che appunto la direzione generale archivi sta cercando di portare avanti da qualche tempo anche grazie a degli importanti finanziamenti che ci sono stati accordati dal Ministro. Non ultimo anche un progetto che riguarda la digitalizzazione di tutte le mappe catastali, dei documenti per i quali vi è una maggiore richiesta da un punto di vista amministrativo, ricordiamo che gli archivi sono tornati ad essere aperti mentre in genere i luoghi della cultura sono chiusi proprio per dare una risposta ai tanti professionisti che avevano necessità di recarsi nei nostri istituti per consultare documentazione fine amministrativa per il super bonus del 110%. Se fosse stato soltanto per le esigenze connesse agli studiosi e alla cultura noi saremmo rimasti chiusi come tutti gli altri luoghi della cultura poiché in questo modo invece era necessario far ripartire attraverso la consultazione di documentazione conservata negli archivi l'economia del paese attraverso questo investimento su un super bonus c'è stata data la possibilità di appunto di aprire e dal 4 di dicembre tutti gli archivi di stato sono regolarmente aperti al pubblico pur nel contingentamento delle presenze e nella sicurezza dei luoghi per i lavoratori e per gli utenti. Quindi cosa dire si tratta in questo caso di un nel caso delle schede prodotte per questo lavoro dei partigiani di oltre 700.000 schede che sono state che sono state digitalizzate quindi un lavoro molto importante e il ringraziamento va ancora a tutti coloro che hanno reso possibile questo lavoro e questo risultato compresi i funzionari che molte volte non vengono citati ma che invece poi sono quelle colonne portanti che portano e fanno realizzare i lavori e quindi un ringraziamento anche a Maria Chiara Cozzi dell'ICAR a Daniela Martino e Pasquale Ursini per il loro impegno nell'attività che hanno portato avanti. Quindi grazie ancora e scusatemi se anch'io dovrò saltellare da una riunione all'altra ma abbiamo questo tavolo per l'innovazione tecnologica che adesso sta seguendo una collaboratrice. Grazie. Grazie infinite direttore, è sempre un piacere ascoltarla, grazie della partecipazione. La ringrazio di aver citato i nomi dei funzionari che anche io ovviamente ringrazio insieme a tutti coloro che sono coinvolti in questo progetto. È veramente un gioco di squadra, una bella squadra. Prima di passare la parola immediatamente al dottor Petraglia dell'archivocettario dello Stato molto brevemente vi porto il saluto dell'architetto Laura Moro in rappresentanza dell'Istituto Centrale Digitalizzazione Patrimonio che purtroppo anche lei è impegnata in altre cose, non può partecipare direttamente ma mi ha chiesto appunto di salutarvi e che diciamo rientra pieno in questo tema che stiamo trattando anche in nome di quello che è stato richiamato dal Ministro cioè nell'ottica della politica di digitalizzazione del patrimonio intesa a 360 gradi, quindi non solo riproduzione ma riproduzione accompagnata da quel contesto che in questo caso è un contesto archivistico molto importante che restituisce appieno l'informazione. Quindi i saluti a tutti voi da parte dell'architetto Moro, direttore dell'Istituto Centrale Digitalizzazione Patrimonio. E a questo punto dottor Petraglia ha lei la parola per l'archivio centrale dello Stato. Grazie dottoressa, buongiorno a tutti. La dottoressa mi ha già presentato, sono Gaetano Petraglia, funzionario archivista presso l'archivio centrale dello Stato dove mi occupo del fondo RICOMPART. Intervengo delegato dal sovrintendente dottor Stefano Vitali che si scusa per non poter essere qui stamattina ma è impegnato in un comitato di riunione istituzionale a Palazzo Chigi dove in questi minuti si sta riunendo il comitato consultivo per il monitoraggio dell'attuazione della direttiva Renzi sulla documentazione declassificata sulle stracci, comitato di cui il sovrintendente è coordinatore. Pertanto è mio il compito di portarvi il saluto del dottor Vitali di tutto l'archivio centrale dello Stato. Ringrazio il signor Ministro per i beni e attività culturali per il turismo che ci ha onorato della sua presenza in questo atto inaugurale del portale Partigiani d'Italia. Ringrazio la dottoressa Buzzi, direttore generale degli archivi, anche per il costante supporto che ha offerto il progetto e per l'attività che in generale svolge per l'amministrazione archivistica. Saluto tutti i partner che hanno avuto un ruolo, che hanno un ruolo importantissimo e preziosissimo in questo progetto, l'Istituto Parri, l'Istoreto, la scuola normale superiore di Pisa. Consentitemi un ringraziamento particolare a LICAR, la persona della dottoressa Reale, dei colleghi, in particolare del collega dottor Orsini, per l'opera di coordinamento scientifico che stanno facendo nell'ambito del progetto e anche per lo sforzo organizzativo che insieme agli altri hanno profuso per questo incontro. Con LICAR l'archivio centrale ha stretto un accordo di collaborazione di recente e da cui è scaturita una davvero proficua collaborazione che sta portando dei notevoli risultati. Come saprete, il fondo dell'ufficio per il riconoscimento delle qualifiche e le ricompense dei partigiani, più semplicemente RICOMPART, è conservato in ACS dal 2009, quando fu versato dalla Direzione Generale Personale e Militare del Ministero della Difesa. Si tratta di una mole imponente di fascicoli, condizionati in circa 7500 buste per una consistenza totale di circa un chilometro lineare. A questa documentazione, a questa massa di documentazione, si accompagna un altrettanto imponente schedario che è appunto costituito dalle 700.000 schede e oltre che sono state digitalizzate e indicizzate e che ora sono a disposizione degli utenti sul portale Partigiani d'Italia. Perciò è superfluo quasi sottolineare questo importante progetto e quanto importante sia l'archivio in particolare, che formatosi per esigenze strettamente amministrative e quindi per la trattazione delle istanze di coloro che chiedevano la qualifica di Partigiano, ha finito per rivelare, diciamo, allegate proprio a quelle istanze una varietà di documenti che oggi sono diventati fonti basilari per la storia della resistenza in Italia. Penso per esempio alle relazioni che i singoli o le formazioni partigiane presentavano accompagnate alle istanze per corroborare proprio le loro richieste i ruolini delle formazioni partigiane o i verbali delle sedute delle commissioni provinciali o della commissione unica nazionale, giusto per fare qualche esempio. Il fondo RICOMBART è uno dei due o tre fondi più consultati in archivio centrale dello Stato e infatti fin dal suo arrivo qui da noi abbastato grande interesse nell'utenza che ci chiede pressoché quotidianamente la consultazione dei documenti sia attraverso il nostro servizio di ricerca per corrispondenza che come si può immaginare in questo periodo emergenziale è stato particolarmente richiesto, sia in presenza presso la nostra sala studio dove si alternano sia singoli cittadini desiderosi di ricostruire dei pezzi di storia familiare che studiosi importanti, diciamo studiosi della resistenza che hanno poi realizzato importanti i contributi proprio a partire dai fondi del nostro archivio. Tra l'altro alcuni di questi studiosi interverranno con le loro relazioni subito dopo e ne approfitto per salutarli. Quindi la CS sente particolarmente forte il dovere di continuare a lavorare sull'archivio del RICOMBART proseguendo gli interventi archivistici svolte in passato dai colleghi che storicamente se ne sono occupati, allo stesso tempo programmando delle attività di studio e ricerca per il presente e per il futuro. A questo scopo, proprio grazie alla collaborazione con l'Istituto Centrale di Archivi nell'ambito di questo progetto, l'archivio centrale ha avviato l'analisi più approfondita del fondo attraverso le attività di censimento archivistico e di descrizione di tutto il complesso documentario, un'attività che attraverso l'individuazione dei soggetti produttori, delle modalità di sedimentazione e delle tipologie della documentazione mira a ricostruire la storia archivistica del RICOMBART, a dettagliare la conoscenza del fondo e quindi a favorire una più ambe consultazioni da parte degli utenti che avranno a disposizione ulteriore documentazione oltre alle schede nominative, documentazione finora non ancora inventariata. Il lavoro che stiamo facendo insieme all'ICAR attraverso questo censimento è in definitiva consentirà di stabilire un collegamento molto stretto, potrei dire di recuperare il vincolo archivistico tra le schede nominative che oggi vengono messe a disposizione sul portale e quest'ulteriore complesso di documentazione che sarà al termine delle attività a disposizione di tutti. Documentazione che quindi di quelle schede nominative costituisce un completamento, un corrispettivo archivistico. Concludo dicendo che l'archivio centrale desidera confermare ovviamente il proprio impegno intrapreso nell'ambito di questo progetto, rinnovare la propria disponibilità, la collaborazione con l'istituto centrale per gli archivi e con tutti i partners che hanno un ruolo in questo progetto, gli istituti storici della resistenza, la scuola normale, le università e assicura anche di continuare il dialogo con il Ministero della Difesa con il quale si sta verificando nelle opportune sedi, vale a dire anche in Commissione di Sorveglianza, l'eventuale esistenza di ulteriore documentazione che debba magari essere ancora versata e che potrà essere eventualmente oggetto di ulteriori interventi archivistici per il futuro. Ora non mi dilungo oltre, vi ringrazio per l'attenzione che avete riservato a me ma soprattutto all'archivio centrale dello Stato. Vi saluto, grazie. Ringrazio infinitamente il dottor Gaetano Petraia per questa esposizione così chiara e soprattutto per aver sottolineato l'importanza fondamentale di allargare l'attenzione oltre allo schedario che indubbiamente è il cuore del portale che non a caso si chiama Portale Partigiani, lo schedario delle commissioni per il riconoscimento degli uomini e delle donne della resistenza, però per aver allargato lo sguardo all'intero complesso, un complesso di oltre 7500 pezzi il cui riordinamento consentirà ecco di avere tantissime ricche, inedite informazioni su questo periodo essenziale della nostra storia. A questo punto, sempre all'insegna della rapidità, passo la parola al dottor Claudio Maderloni che parlerà in rappresentanza dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Prego dottor Maderloni, non c'è. Grazie. Ah, eccolo. Sì, sì, sì. Scusate. Mi sono e porto il saluto della nostra Associazione Nazionale Partigiane d'Italia e soprattutto del mio eletto presidente Giacomo Pagliarulo. E vorrei entrare nel primo aspetto che riteniamo da sottolineare, sul contenuto della banca d'arte. La consultazione pubblica dei fascicoli offrirà la risposta a quel revisionismo che strumentalizza la storia e che è imperversa soprattutto sui social e in alcune ambigue antiscientifiche operazioni editoriali. Anche la semplice lettura di quelle carte toglie ogni attendibilità alla raffigurazione falsa e artificiosa dei resistenti, succobi delle loro ideologie di odio e di cieca violenza e restituisce lo spessore di umanità alla base delle loro scelte. Quei documenti raccontano di militari e civili, di giovani e di donne, di operai e professionisti, studenti, insegnanti, sacerdoti, carabinieri, protagonisti della lotta contro gli occupanti nazifascisti per la liberazione del nostro paese. Militari e civili, insieme, appunto, tra una antologia di molti e di storie e di che testimoniano l'Italia migliore, che ha avuto il privilegio di poter sfogliare quelle schede e le testimonianze contenute nei documenti conservati, e ha potuto comprendere fin da subito il proprio grande valore morale, e questa è la seconda questione che volevamo sottolineare, che diviene ancora più prezioso oggi in un'Italia che è in ginocchio ed è disorientata. Dalle cartelle emergerà la complessità della resistenza. Potranno dare a ogni studioso e a ogni storico il senso reale della pluralità e della terza questione che vorremmo sottolineare, la pluralità della composizione dei raccorpamenti di quelle bande, di quelle formazioni, di quelle brigate, dell'esercito di popolo. Combattere il nemico comune ha cementato il loro rapporto ha fatto superare le diversità dei signori, le diverse condizioni sociali e le diverse fede politiche e religiose, uniti nella scelta del che fare. Si vedrà una resistenza composita di persone che al nord, al centro e al sud hanno combattuto per liberare il nostro paese, e anche all'estero, soffrendo tutti insieme su questa questione. Si comprenderà la qualità che anche le entità della resistenza, però noi sappiamo che non tutti hanno avanzato domanda animata solo dalla voglia di lasciarsi alle spalle più di vent'anni di odio, di guerre e di miseria. Non abbiamo combattuto solo contro un regime autoritario, dichiarato qualche tempo fa un ex comandante partigiano, ma abbiamo combattuto anche per il futuro migliore del nostro paese. Certo, ognuno di loro ha sacrificato sull'altare della costruzione di un nuovo consenso civile, di un nuovo stato democratico, una parte dei propri propositi. Di quei momenti difficili, crudeli contro quel nemico, era necessario trovare una unità speciale, e cioè quella questione che li univa. L'unità e la pluralità erano più importanti delle decisioni individuali o dei desideri individuali. E' proprio operando con questo spirito che hanno consegnato a noi quella carta quotidiana. Soprattutto oggi, in termini di pandemia e in tempi di crisi sanitaria ed economica, in momenti così difficili come quelli che viviamo, sarebbe necessario dare una risposta forte e noi contensiamo che non si parte da zero. E' proprio nelle vicende personali e collettivi riportate in questi danni che possiamo trovare quei valori che hanno fatto da mussola per il percorso durissimo, nobile, che ha portato al dettaglio costituzionale. Libertà, democrazia, solidarietà, uguaglianza, giustizia sociale, pace che troviamo in quelle schede. Sono questi i valori che abbiamo ereditato dalla resistenza, sanciti nella nostra carta. E come allora fecero le partigiane e i partigiani durante la lotta liberazione, oggi dobbiamo rimettere al centro del nostro agire la persona, il lavoro e la società. E' qualche l'occasione, perché non credo che qualcuno lo farà, per ricordare proprio, speravo che ci fosse anche il ministro, ma non la figura di Ilio Muraca, che è stato partigiano, pluridecorato, generale del Corpo d'Armata per dieci anni, presidente della commissione dei riconoscimenti e delle qualifiche partigiane, che impegnò moltissime delle sue energie alla tutela del fondo ricomparso e portando nell'archivio di stato tutto quello che c'era in Italia. E mi preme ricordare, perché penso che non ci sarà modo di farlo, anche il senatore Luciano Bersoni, che da vicepresidente nazionale vicario della nostra associazione, nel novembre del 2016 si fece parte attiva, seguendo con cura tutta questa questione, organizzando presso l'archivio di stato, tra i dirigenti dell'archivio, la Confederazione italiana delle associazioni combattentistiche e partigiane e parlamentari, per sollecitare risorse economiche indispensabili, affinché il fondo potesse essere reso informatizzato e quindi provibile dagli studiosi. Sono figure che saranno nell'ombra e non ricordate, ma che l'ampia la necessità di farvele e di farle ricordare. Sono convinto e concludo che essere a pieno della nuova risorsa per la storia della residenza italiana contro il nazismo e il fascismo sarà necessario, che il fondo possa essere accessibile alle scuole, che sia materia di studio, di approfondimento dei giovani studenti e spero anche che ci sia un interesse da parte degli insegnanti e dei tanti direttori che a volte perdono la memoria degli uffici scolastici regionali per la costruzione di un senso civico in molti casi che sembra smarrito. Concludo, riteniamo straordinariamente importante questo lavoro, daremo per quanto ci sarà possibile il sostegno della nostra associazione, ma credo che ci sarà e non mancherà anche il sostegno di tutte le altre associazioni combattentie e partigiane e spero che ci sarà anche il sostegno di tutta la Confederazione. Grazie. Grazie infinite a Claudio Maderloni per queste sue parole così dense che parlano da sola. Per aver ricordato le due figure che ha citato, che si sono adoperate per la salvaguardia di questo patrimonio documentario, posso solo assicurare che tutto quello che si fa e che è ben nota a tutti voi va proprio nella direzione di renderlo fruibile a studiosi ma anche alle scuole, che è un'attività che gli archivi di Stato sia attraverso i progetti di collaborazione, l'ex alternanza scuola lavoro, ma in generale cercano di portare avanti con risultati che sono sempre molto soddisfacenti nonostante le tante difficoltà. E a questo punto io ho completo il mio compito, abbiamo cercato, ecco ringrazio tutti di contenerci nei tempi, dando la parola al professor Paolo Pezzino, presidente dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, già docente all'Università di Pisa di Storia Contemporanea che introdurrà e presenterà i relatori della seconda parte della giornata, ma consentitemi proprio in ultimo di ringraziare perché è il minimo che si possa fare proprio tutti quelli che hanno collaborato al progetto sin dall'origine, quindi oltre all'Istituto Centrale, l'ex direttore Vitali, i funzionari che sono stati nominati, l'Archivio Centrale dello Stato, l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, l'Istituto Piemontese per la storia della resistenza società contemporanea Giorgio Agosti, un ringraziamento particolare anche al Parri, anche per il supporto tecnico organizzativo per questa diretta e l'augurio è che si possa proseguire su questa strada perché è veramente meritevole. Quindi prego, professor Pezzino, a lei la parola e la conduzione della seconda parte della giornata. Grazie, grazie dottoressa Reali, grazie a tutti coloro che sono intervenuti, grazie ovviamente al ministro che ha voluto onorarci della sua presenza, sottolineare l'importanza di un progetto che credo per la prima volta cerchi di mappare la consistenza, le caratteristiche del partigianato a ormai 75 anni di distanza dalla conclusione della guerra. Non mi dilungo oltre sull'importanza di questo progetto che è stata sottolineata da tutti coloro che sono intervenuti, quindi mi unisco all'auspicio che quello che presentiamo oggi sia solo una tappa di un progetto più ampio che dovrà vedere non solo censiti altri materiali che possano essere depositati ma anche indagini più approfondite sui fascicoli. Noi siamo giustamente per un portale partiti dalle schede ma poi il collegamento coi fascicoli è fondamentale. Visto che i tempi sono rispetti, prego tutti i relatori di attenersi rigorosamente ai 15 minuti di tempo massimo. Dopo 12 minuti io mi permetterò di intervenire per sottolineare che mancano solo tre minuti per la conclusione. E allora cominciamo questa parte di analisi scientifica del fondo e del portale dando la parola a Pasquale Orsini dell'ICA dell'Istituto Centrale per gli Attivi che ci parlerà di riapparve la luce insospettabile della resistenza e il progetto Partigiani d'Italia fasi, finalità e risultati. Prego dottor Rossini. Buongiorno a tutti, spero che si senta la mia voce. Il mio intervento ripercorre appunto le varie fasi del progetto puntando l'attenzione su alcuni aspetti. Il progetto come è stato già ricordato prende l'avvio nel giugno del 2017 quando la Direzione Generale Archivi ha assegnato appunto all'Istituto Centrale per gli Archivi un finanziamento per rendere accessibile ai ricercatori ma soprattutto anche ad un ampio pubblico una parte del Fondo Archivio per il Servizio di Riconoscimento qualifiche per le ricompense ai partigiani, cosiddetto RICOMPART, che conserva la documentazione prodotta dalle varie commissioni regionali e nazionali per coloro che avendo partecipato a vario titolo alla lotta di liberazione chiesero che fosse riconosciuto il proprio contributo alla resistenza. Il fondo archivistico era conservato presso il Ministero della Difesa che lo ha versato con tutta la documentazione fino al 1994 all'Archivio Centrale dello Stato nel corso degli anni 2009-2012 a seguito di una convenzione del 2008. Il cuore del progetto riguardava e riguarda tuttora la digitalizzazione di una parte cospicua dell'Archivio, vale a dire, come è stato ricordato, gli schedari. 611 cassette raggruppate in base alle commissioni che le hanno prodotte contenenti 703.716 schede personali. Le informazioni riportate nelle schede variano a seconda delle commissioni ma generalmente riguardano dati anagrafici, le attività svolte nelle formazioni partigiane e negli altri corpi volontari, i lavori della commissione e soprattutto l'esito della valutazione che comporta il riconoscimento delle varie qualifiche, partigiano combattente, caduto per la lotta di liberazione, mutilato o invalido per la lotta di liberazione, patriota e delle ricompensi al valore previste dal decreto legislativo logotenenziale numero 518 del 1945 con il quale il tema del riconoscimento dell'attività partigiana trovava una definitiva disciplina normativa. Si tratta quindi di una fonte che racchiude dati sommari e che è stata concepita dai soggetti produttori come uno strumento di lavoro, di sintesi della propria attività. Per questa loro natura burocratica e amministrativa questi schedari rappresentano un utile strumento, come è stato più volte ricordato questa mattina, per l'abbio di una ricerca che non può prescindere anche dalla consultazione della restante documentazione del fondo RICOMPART. La digitalizzazione degli schedari e la costruzione di una banca dati fondata proprio sugli schedari sono stati gli obiettivi essenziali del primo accordo fatto tra l'ICAR e la scuola normale superiore di Pisa nel 2017. Sono seguiti a questo accordo altri accordi, nel novembre del 2017 tra l'ICAR e l'Istituto Piemontese per la storia della resistenza Giorgio Agosti, nel 2018 tra l'ICAR e l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, e infine nel dicembre del 2019 tra l'ICAR e l'Archivio Centrale dello Stato. Tutti accordi centrati proprio sulla valorizzazione di questa fonte, in questo caso lo schedario in modo particolare, per metterlo a disposizione in un portale. Tra le finalità del progetto la principale era e rimane tuttora la conoscenza dell'intero fondo RICOMPART. Esso trae la sua origine dalle attività delle commissioni regionali che furono istituite appunto nel 45, con il decreto che ho citato, con il quale si disponeva l'istituzione di 11 commissioni regionali, di una commissione estero, cioè che aveva delle competenze sui cittadini italiani che avevano fatto parte di movimenti partigiani di altri stati, e di una commissione di secondo grado che decideva sui ricorsi e sulle proposte di ricompensa al valore. Nel 48 furono istituite altre due commissioni, cioè una commissione per i partigiani della Venezia Giulia e un'altra commissione per la equiparazione ai combattenti della guerra di liberazione degli appartenenti alle formazioni Maiella, Modena, Patrioti Apuani, Pippo, Ravenna, Tigre, che avevano combattuto a fianco delle forze armate italiane e alleate. Nei primi anni di attività le commissioni hanno vagliato una cospicua quantità di proposte, tanto che già verso la fine del 1950 quasi tutte avevano concluso i lavori. Per lo svolgimento della propria attività ciascuna commissione aveva organizzato un archivio che al momento della cessazione fu trasferito a Roma, dove ad occuparsene fu in prima istanza il Servizio Commissioni Riconoscimento Qualifiche Partigiani, presso il Sottosegretariato per l'assistenza ai Reduci e ai Partigiani della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successivamente la Commissione Unica Nazionale istituita nel 1968. Infatti con una legge del 1968 le commissioni regionali previste nel 1945 e che in realtà da anni avevano già cessato ogni attività furono formalmente soppresse e le loro competenze demandate ad una Commissione Unica Nazionale di primo grado con sede a Roma. Fu confermata tuttavia la Commissione di secondo grado che aveva sempre competenza sui ricorsi e le ricompensi al valore. Attualmente il fondo Riconparte comprende 7.430 buste circa, contenenti verbali, fascicoli personali, elenchi, quadri statistici, prodotti appunto dalle commissioni regionali, dalla commissione estero e in parte dalla commissione di secondo grado. 54 volumi dei verbali, originali e copie, della Commissione Unica Nazionale per gli anni che vanno dal 68 al 94, 615 cassette contenenti circa 707.000 schede nominative di cui 703.716 già digitalizzate. Allo stato delle conoscenze non è possibile stabilire se la composizione del fondo archivistico rifletta l'intera produzione documentaria delle varie commissioni. parte della quale sembra al contrario essere andata o dispersa o rimasta a livello locale. Ciò che appare certo è che la struttura attuale del fondo sia il prodotto di un riassetto della documentazione operato prima dal servizio commissioni riconoscimento qualifiche partigiani e successivamente dal 1968 dalla Commissione Unica Nazionale che l'hanno sensibilmente rimaneggiata, aggiornata, provvedendo ad aggiungere ulteriore materiale. In occasione della ricorrenza del 75esimo anniversario della liberazione nella settimana dal 25 aprile al 2 maggio 2020 è stata resa possibile in anteprima la consultazione di una quantità limitata di schede, circa 205.000, cioè quelle che erano state sottoposte ad un'accurata revisione e correzione dei dati. A partire da oggi, 15 dicembre 2020, sarà pubblicamente e stabilmente accessibile il portale che fornirà la possibilità di consultare, previa una registrazione gratuita, per motivi di gestione di dati abbastanza sensibili, anche le riproduzioni digitali delle schede originali. In questa fase saranno pubblicate, come ben evidenziato nella home page del portale, le schede revisionate delle commissioni regionali Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte e della Commissione Estero, per un totale di 318.111 schede, circa il 45% di tutte le schede. Entro il 25 aprile 2021 saranno pubblicate le schede delle commissioni regionali Lombardia, Toscana e Umbria, per un totale di 134.900 schede, circa il 19% del totale delle schede. Restano invece da avviare alla revisione e alla correzione dei dati 248.900 schede, circa il 35% delle restanti commissioni, cioè la commissione Abruzzi, la commissione Triveneto, la commissione di secondo grado e un cospicuo schedario che è attribuibile su base critica al servizio commissioni, riconoscimento, qualifiche, partigiani. Che altro rimane da fare? Per il fondo archivistico, come è stato già evidenziato, soprattutto da Gaetano Petraglia, che qui ringrazio per quanto riguarda la disponibilità dell'archivio centrale dello Stato. Quindi per il fondo archivistico il riordinamento della documentazione, che significa riordinare i fascicoli all'interno delle buste e delle buste all'interno delle serie di appartenenza. Analisi dettagliata di questa documentazione contenuta nei fascicoli e in modo particolare individuare le commissioni, i vari soggetti produttori, i criteri di formazione e di sedimentazione della documentazione adottati nel corso dei procedimenti di riconoscimento delle qualifiche partigiane. La descrizione, a seguito del riordinamento o contemporaneamente al riordinamento di tutto il fondo e la digitalizzazione, come accennavo, di altre quattro cassette non digitalizzate nella prima fase che contengono circa 3.000 schede e che hanno dei dati molto importanti che non voglio rivelare in anteprima, ma che sarà un importante risultato raggiunto. Per il portale, invece, partigiani, sul fronte cioè del portale internet, innanzitutto completamento della correzione e revisione delle schede, come ho accennato poco prima, completamento del censimento della documentazione ricomparte, come è stato anche detto da qualcuno che mi ha preceduto, che non è presente attualmente nel fondo ma che è dispersa sul territorio nazionale. Di questo abbiamo una serie di certezze perché è stata individuata e rintracciata. Redazione di schede sintetiche sulle formazioni partigiane, riconosciute al momento della smobilitazione dei partigiani, da collegare poi alle singole schede biografiche. Attività, poi, questa è la cosa più interessante e importante, è lo stato attuale, di completamento, manutenzione, arricchimento di questa banca dati che coinvolga anche istituzioni nazionali, locali, associazioni, istituti, fondazioni che si sono occupati o si occupano della storia della resistenza o che siano comunque interessati a sostenerne anche economicamente perché in questo caso il denaro è molto utile, lo studio e la divulgazione. insomma, il portale Partigiani d'Italia consente di rimettere al centro dell'attenzione storica una fonte archivistica poco sfruttata fino ad ora. Sebbene gli schedari delle commissioni costituiscano, come ha detto il direttore Elisabetta Reali, il reale il cuore del portale, non sfugge tuttavia che l'attenzione sull'intero archivio, un archivio che rappresenta certamente una fonte storica per il fenomeno resistenziale italiano 1943-1945 ma che permette di gettare uno sguardo critico e storico e storico perché critico sui rapporti che l'Italia repubblicana ha avuto a partire dal 45 fino ad oggi con il fenomeno resistenziale. L'ICAR in collaborazione con tutti gli enti che ho ricordato ha voluto mettere a disposizione dei cittadini italiani uno strumento che possa contribuire a fare luce sui vari aspetti della resistenza italiana e per citare un verso di Per Paolo Pasolini con il portale Partigiani d'Italia riapparve la luce insospettabile della resistenza. Mi sia consentito in chiusura del mio intervento di fare qualche ringraziamento perché senza le persone tutto questo non si può fare e non si poteva fare. Innanzitutto sul fronte dell'ICAR il funzionario che mi ha affiancato in questa impresa Maria Chiara Cozzi e la collaboratrice Daniela Martini. Sul versante dell'archivio centrale dello Stato voglio ringraziare Carlo Maria Fiorentino che è stato colui che si è occupato fino a settembre di quest'anno del fondo Recompart. Gaetano Petraglia che abbiamo sentito attualmente appunto responsabile del fondo Recompart con Maurizio Di Ruzza. Mi sia consentito di poter ringraziare Stefano Vitali ex direttore dell'Istituto Centrale per gli Archivi e attuale sovrintendente dell'Archivio Centrale dello Stato ed Elisabetta Reale attuale direttore dell'Istituto Centrale degli Archivi ed ex sovrintendente dell'Archivio Centrale dello Stato. Mi sia consentito anche fare un ringraziamento particolare a Barbara Berruti a Mirko Carrettieri che hanno lavorato insieme a tutti noi per mettere in piedi tutto questo e infine ma non alla fine mi sia consentito anche un particolare ringraziamento a coloro che hanno costruito questo strumento tecnicamente quindi la Scuola Normale Superiore con Mariano Mirra prima c'era anche Umberto Parrini Maddalena Taglioli e Davide Merlitti grazie per la vostra attenzione non si sente non si sente professore non si sente adesso si grazie scusate grazie per questa descrizione così precisa e puntuale del fondo e anche per aver sottolineato che la messa online del portale è solo un primo passo per un lavoro di ricerca che dovrà impegnare molte forze nei prossimi anni ovviamente mi unisco ai ringraziamenti a tutti quanti che lei ha voluto fare consentitemi di un ricordo affettuoso un saluto affettuoso a Stefano Vitari che conosco da 40 anni ricordo che quando ancora non era un importante funzionario degli archivi collaborò a un mio progetto di ricerca sull'estrage andando a lavorare in archivi esteri lo saluto caramente ora do la parola a Barbara Berruti dell'istituto torinese che parlerà del lavoro degli istituti storici pirmontesi dell'istituto nazionale Ferruccio Pari sottolineo che gli istituti storici pirmontesi sono stati all'avanguardia i primi a impostare un lavoro di censimento del partigianato prego Barbara grazie buongiorno a tutti e grazie di questa occasione il compito come diceva il professor Pezzino che mi è stato affidato è quello di fare una breve storia del primo lavoro che fu costruito intorno a questa fonte e poi altrettanto brevemente raccontarvi come abbiamo lavorato in questi anni come istituto piemontese per la storia della resistenza istoreto e come istituto nazionale Ferruccio Pari nell'ambito degli accordi di cooperazione attivati con il ministero dei beni culturali e con l'ICAR altri studiosi poi dopo di me entreranno nel merito dell'uso di questa tipologia di documentazione ai fini della ricerca vera e propria come ricordava Pezzino la prima banca dati costruita sui dati Ricompart nasce all'interno di un progetto portato avanti proprio da tutti gli istituti della resistenza del Piemonte a partire dal 1991 un progetto ambizioso che firmò Claudio della Valle che allora era professore all'università di Torino e che si propose come coordinatore il progetto nasceva in prospettiva del cinquantesimo anniversario della resistenza e nel progetto della Valle sottolineava come nei decenni precedenti il dibattito storiografico intorno alla resistenza si era limitato diciamo si era caratterizzato non limitato ma a studi prevalentemente militari e politico-militari e allora cioè a 50 anni comunque dalla fine della guerra si sapeva molto poco di quanti erano stati i partigiani quale provenienza sociale avessero quali percorsi avessero compiuto queste domande nel 1991 si inserivano all'interno di un dibattito più ampio l'anno appunto dicevo il 1991 sono gli anni che sono segnati dagli studi e poi dall'uscita del libro di Claudio Pavone in cui per la prima volta vengono messi al centro dell'attenzione proprio i protagonisti con la loro soggettività le loro motivazioni le loro scelte il lavoro piemontese si colloca proprio all'interno di questa nuova cornice storiografica e deve però confrontarsi con dati quantitativi per costruire l'identità anche di coloro che non avevano lasciato altre tracce della loro scelta partigiana se non in quella richiesta fatte alle commissioni regionali nell'immediato dopoguerra ora lavori quantitativi ovviamente erano già stati in parte avviati dagli istituti della resistenza nello stesso Piemonte ma anche in altre regioni ma erano diciamo ricerche limitate non esaustive i materiali locali erano spesso dispersi o frammentati e la strada migliore si rivelò allora quella proprio di rivolgersi all'archivio Reconfort la strada in Piemonte era facilitata perché c'erano già stati dei contatti con l'istituto della resistenza di Cuneo e il Reconfort come abbiamo sentito dalle relazioni precedenti si trovava allora al Ministero della Difesa le fonti conservate in quell'archivio erano diverse ma ponevano dei problemi diversi per esempio i fascicoli personali non erano disponibili per ragioni di riservatezza i fogli notizi erano frammentati in parte erano ancora nei distretti militari in parte erano stati restituiti a chi li aveva compilati la maggior parte dei fascicoli poi non era proprio disponibile quindi diciamo la scelta allora fu quella di prendere i documenti che facevano parte dello schedario nominativo che risultava essere la fonte più organica ora lo schedario nominativo è quello che abbiamo considerato anche oggi è quello che fa parte della banca dati del portale Partigiani d'Italia faccio subito qui una considerazione evidente che allora l'obiettivo della ricerca era quello appunto di indagare il rapporto tra partigianato piemontese e società civile però e quindi la fonte era funzionale a questa ricerca tuttavia si rivelò così importante che i lavori degli anni successivi furono incentrati proprio sulla schedatura di questa fonte che ebbe subito degli utilizzi immediati ne cito uno per tutti la mostra con le armi senza le armi realizzata dagli istituti del Piemonte nel 95 che offrì un punto di vista nuovo proprio grazie alla disponibilità di questi primi dati e che in effetti contribuì a far emergere la stretta relazione fra guerra partigiana territorio e società civile negli anni successivi proprio a partire dalla disponibilità di questa fonte sia i ricercatori che avevano lavorato sia nuovi studiosi continuarono a riflettere a sviluppare quei dati e quindi mentre lo strumento diciamo svolgeva il compito per cui era stato pensato nel progetto si era scritto che avrebbe dovuto dotare gli istituti della resistenza di una strumentazione indispensabile alla loro attività e mettere a disposizione degli studiosi nuovi elementi di conoscenza diventò anche chiaro però che quello strumento poteva essere utile anche al semplice cittadino ma anche agli amministratori locali per capire meglio diciamo la storia del territorio ma anche per trovare informazioni personali che attenessero alle vicende di famiglia alle storie della comunità e proprio per questo intorno agli anni 2000 Andrea Davigo e Carlo Pischedda del distoretto hanno cominciato a ragionare su quei dati al fine di consentire una migliore divulgazione e in occasione del sessantesimo anniversario della resistenza quindi arriviamo al 2005 questa banca dati che era nata su DB3 che poi si era trasformata in Access viene messa sul web è stata realizzata un'interfaccia di accesso facilitato ai dati e il database appunto da maggio 2005 è pubblicato su internet sul nostro sito ora in questi 16 anni è sempre stata la pagina più frequentata e oggetto costante di interrogazione da parte di esperti di studiosi ma soprattutto di singole persone che cercano la propria storia familiare o come dicevo prima anche quella della comunità e qui però quando appunto viene consultata da non esperti emergono problemi la difficoltà di capire la fonte la volontà di vedere inserito chi magari non c'è il fatto che si vorrebbero più dati ecco che allora che nel 2017 l'accordo di cooperazione tra il ministero l'ICAR e l'Istoreto ha dato vita a una nuova attività di valorizzazione e ricerca su questa fonte fondamentale il lavoro di digitalizzazione di tutte le schede dell'archivio nominativo consente finalmente per la prima volta di avere insieme la trascrizione dei dati la possibilità di interrogarli e la visione del documento il che facilita enormemente la comprensione anche della fonte allora il nostro ruolo in questa prima fase il nostro ruolo con l'Istoreto è stata quella di mettere a disposizione del gruppo di lavoro l'esperienza pregressa e quindi abbiamo lavorato alla definizione del tracciato della banca dati abbiamo messo a disposizione i nostri dati ma abbiamo anche cercato rispetto al portale di metterci dalla parte dell'utente provando a rispondere alle domande che negli anni ci eravamo sempre sentiti porgere molti utenti che accendono la banca dati non sanno bene quale sia la fonte da cui sono tratte le informazioni sul portale c'è una sezione molto accurata su cui ha lavorato Pasquale Orsini che ripercorre proprio la storia restituisce la storia dell'archivio e poi le altre sezioni riguardano la legislazione le commissioni e le formazioni tutto abbiamo sentito prima a origine dal decreto luogotenenziale emanato nell'agosto del 45 il decreto stabilisce le qualifiche che possono essere attribuite partigiano patriota invalido caduto e le caratteristiche necessarie per l'ottenimento della stessa qualifica abbiamo voluto elencare le leggi oltre a questa che si sono susseguite nell'immediato dopoguerra e che ci aiutano a capire quali sono stati i vari iter di riconoscimento ecco queste leggi si sono per lo più concentrate in un periodo molto breve 43-45 ma sono nate con l'intenzione di dare un pubblico riconoscimento un segno che esaltasse la memoria di coloro che si erano battuti per un'Italia migliore il riconoscimento dei partigiani come membri effettivi delle forze armate le onorificenze concesse al merito di guerra i benefici ai familiari ai caduti e dei mutilati segnano uno dei primi tentativi di creare una memoria pubblica della resistenza che in quegli anni andava affiancandosi ai primi monumenti il decreto poi l'avete sentito prevedeva l'istituzione di 11 commissioni regionali per la valutazione delle domande fino ad oggi una ricerca sistematica sulle commissioni non era mai stata fatta e anche questa è stata avviata in questa prima fase del progetto che oggi vi presentiamo i ricercatori che abbiamo coinvolto hanno trovato i nomi dei membri delle commissioni i verbali delle sedute da cui emergono i problemi che dovevano affrontare per il riconoscimento ma anche emerge con grande forza tutto il clima delle difficoltà dell'Italia del dopoguerra le commissioni avevano il compito di vagliare le domande che arrivavano sul territorio è importante sottolineare qui che le schede nominative di ogni commissione era diversa lo sottolineo perché i dati non sono omogenei la scheda della commissione Abruzzo è diversa da quella della commissione Ligure eccetera e questo è un'avvertenza fondamentale sul portale sull'home page vedrete tutte le diverse tipologie di schede fotografate e quindi vi renderete conto della difformità dei dati che è una difformità che ovviamente c'è all'origine ecco consentitemi di ringraziare chi ha lavorato sulle commissioni in questa prima fase c'è un gruppo di lavoro degli istituti della resistenza della rete degli istituti Irene Bolzon Mirko Carattieri Isabella Insolvibile Alessio Parisi Andrea D'Arrigo Edio e per l'ICAR Maria Chiara Cozzi Daniela Martino e Pasquale Orsini l'ultima pagina del portale riguarda le formazioni lo accennava prima anche Pasquale Orsini su questa pagina in questo momento voi troverete un'informazione molto sintetica e generale sulle diverse fasi della resistenza abbiamo pensato soprattutto a un pubblico di non specialisti ma era importante segnalare che i tempi della resistenza e della liberazione in Italia sono diversi perché questi tempi poi si riflettono sul decreto a nord della linea gotica e a sud della linea gotica vi sono criteri diversi perché l'inverno del 44 pone al nord dei problemi che al centro e al sud non ci sono come valutare un partigiano che sta in banda tutta l'estate terribile del 44 e poi da novembre a gennaio torna a casa il nord si deve confrontare con questi problemi ecco sul tema delle formazioni però e lo dirò tra un attimo ci siamo dedicati poi nella seconda parte della convenzione la seconda parte della convenzione ricordavo Sini parte nel 2008 e il secondo accordo di cooperazione siglato tra il ministero l'ICAR e l'istituto nazionale Ferruccio Parvi quindi la fase di lavoro sul tracciato e l'integrazione del portale è abbiata comincia ora proprio il lavoro sul cuore del portale un lavoro delicato e complicato che è quello del controllo e dell'implementazione dei dati dalla scheda alla banca dati i lavori dell'istituto nazionale Ferruccio Parvi sul fondo RICOM parte 3 minuti arrivo sul precedente lavoro progetto svolto da Estoretto ecco in questa seconda fase sotto il coordinamento di Mirco sono state censite le fonti soprattutto quelle relative ai lavori delle commissioni presenti sul territorio siamo poi partiti lo dicevo prima su un lavoro più specifico lo accennava anche Pasquale sulle formazioni partendo proprio da una traccia documentaria trovata all'interno dei documenti il primo marzo del 46 il generale Alessandro Trabrucchi che presiede la commissione del Piemonte invita i referendari a compilare lo stato giuridico della formazione cioè a compilare una sorta di carta di identità in cui si restituisca delle formazioni arrivate alla fine della guerra nome, territorio tempi in cui ha operato e principali azioni condotte armamento e uomini a disposizione il portale prevede l'inserimento nella banca date di queste informazioni che presto saranno visibili e ci stanno lavorando Mirco Cargattieri e Andrea D'Arrigo ma soprattutto questa convenzione come dicevo ha diciamo ha portato un gruppo di ricercatori a lavorare sui dati come tutti i lavori di implementazione e pulizia questi sono lavori invisibili lunghi faticosi ma i risultati speriamo che saranno straordinari permettetemi quindi di citare chi sta facendo questo lavoro per la Liguria per la Liguria Alessio Parisi per la Lombardia Elisa Malvestito e Saverio Werther Pecker per l'Emilia Romagna Domenico Vitale e Valentina Bocchi per la Toscana Andrea Ventura e Francesco Fusi per la Campania e Lazio Maria Vittoria Albini per l'Umbria e le Marche Chiara Donati per la Commissione Estero Alessandro Iannucci e per il Piemonte Valentina Colombi mi avvio alle conclusioni e l'avete già detto in molti questo è un lavoro importante che oggi che oggi non è finito ma ovviamente si avvia abbiamo fatto però un grande passo e vale la pena ricordare e sottolineare che questa è una banca dati che poggia su una fonte precisa e restituisce i dati di quella fonte sappiamo benissimo che alcuni partigiani non hanno chiesto riconoscimento che altri non l'hanno tenuto che la fotografia della partecipazione femminile è distorta perché il criterio adottato allora è stato prevalentemente militare ma è la fonte principale da cui bisogna partire i partigiani riconosciuti sono quelli che avevano i requisiti di legge e quelli morali verificati dalle commissioni ecco e lo diceva prima Claudio Maderloni è la base da cui partire per riflettere sull'identità di questi uomini e di queste donne che ci hanno portato dalla dittatura alla Repubblica e per ragionare sulla resistenza in un contesto nazionale perché qui in questa banca dati ci sono tutti i partigiani del sud quelli del centro quelli del nord e ancora io credo che rendere a tutti accessibili i documenti di cui siamo custodi in modo immediato e inocularli nella rete dove circolano tante notizie infondate tante fake sia un dovere morale degli istituti culturali che hanno patrimoni ringrazio quindi il Ministero l'ICAR il Parvi l'Archivio Centrale dello Stato e la rete degli istituti della resistenza che in questo contesto lo stanno rendendo possibile grazie 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 a Barbara per questa relazione anche per la sottolineatura finale dell'importanza di un lavoro di rete tra gli istituti della resistenza do subito la parola perché il tempo spinge a Mirko Carrattieri che è il direttore generale dell'Istituto Nazionale Teruccio Parli che ci parlerà di contare i partigiani il contributo del ricompatto alla quantificazione del fenomeno resistenziale prego grazie buongiorno a tutti anche da parte mia vado subito al punto vorrei parlare di una questione specifica cioè appunto la quantificazione dell'esperienza partigiana è un punto molto importante che sicuramente non esaurisce la funzionalità del ricompatto il ricompatto questo nostro portale legato al ricompatto ha una grande importanza come ha appena detto Barbala a servizio della cittadinanza e degli amministratori della classe dirigente e dal punto di vista anche storiografico a tutta una serie di altri possibili sviluppi qualitativi di alcuni dei quali sentiremo parlare più tardi volevo però fare riferimento all'elemento quantitativo sia perché c'è un'oggettiva carenza come dirò tra poco nella storiografia italiana su questo punto sia perché i nuovi strumenti di analisi di aggregazione resa dei dati resi disponibili dal digitale possono consentire davvero come abbiamo già sperimentato in altre circostanze delle elaborazioni molto significative allora sul problema di base cioè quanti siano stati i partigiani i caduti e poi tutte le altre articolazioni che già abbiamo sentito in effetti ci sono cifre molto oscillanti c'erano durante la resistenza ci sono cioè nella documentazione noi abbiamo alcuni documenti del CVL che quantificano in alcune fasi l'esperienza partigiana soprattutto nell'estate del 44 con cifre tra i 60 e gli 80 mila membri che sono ricordate anche da Ferruccio Parri successivamente più o meno contemporaneamente abbiamo le cifre documentate dalla Repubblica Sociale Italiana in particolare un rapporto di giugno del 44 ci parla di 82 mila unità più di recente sono emerse documenti sul tema anche da parte delle forze angloamericane e dell'oppositore tedesco e c'è da dire che soprattutto nel caso degli angloamericani riprendono più o meno analogamente quanto era già stato indicato dal CVL una forza a regime di circa 70 80 mila uomini e donne ora nel dopoguerra l'elaborazione rispetto a queste cifre è stata varia tuttavia se guardiamo all'aspetto storiografico potremmo notare che mentre la prima grande storia della resistenza quella di Roberto Battaglia accennava genericamente ad un numero di poco più di 300 mila partigiani così si chiudeva l'opera di Battaglia le cifre che vengono date e che sono più o meno analoghe va notato in due storie della metà degli anni 60 quella di Giorgio Bocca e quella molto polemica del fascista Giorgio Pisanò sono state recuperate dalle diverse memorie pubbliche fino praticamente ad oggi la filiera storiografica che parte da Bocca e che è centrata soprattutto sugli studiosi piemontesi da Quazza a Rochard fino a Gianni Oliva riprende più o meno le cifre che erano state date da Bocca sull'andamento dei partigiani quindi una forza sotto le 5.000 unità nell'inverno 43-44 che sale a circa 15-20.000 all'inizio della primavera per arrivare a 70.000 nel corso della grande estate partigiana riscendere fino a circa 30.000 nel duro inverno 44-45 e arrivare a una cifra intorno ai 120.000 in occasione della insurrezione a cui nelle settimane successive si aggiungono più o meno altrettanti partigiani queste stime di Bocca ovviamente basate sulla memorialistica e sulle indagini locali come dicevo vengono fondamentalmente confermate e riprese dalla storiografia successiva fino anche alle ultimissime sintesi disponibili con poche variazioni infatti ritroviamo questa cifra nell'importante volume di sintesi di Santopeli dell'inizio degli anni 2000 che però cita appunto il fatto che queste cifre sono molto approssimative e molto datate e fino alla più recente sintesi di Marcello Flores e Mimmo Franzinelli che pure riprende esattamente queste cifre ora va detto che alcuni di questi storici hanno guardato al ricomp in particolare Rochard prima Oliva poi hanno ripreso le statistiche parziali delle commissioni di partigianato datate intorno al 47-48 quindi a lavoro non ancora concluso quantificando il numero dei partigiani riconosciuti in 250.000 in circa 80.000 quello dei patrioti su questo tornerò tra breve ho detto però che questi dati dicevo già incompleti nel campo della storiografia sono stati sottoposti come sempre accade nella memoria pubblica a delle forti distorsioni di dati di quantificazione del partigianato si sono occupate le associazioni partigiane come ricordava Claudio Maderloni si sono occupati molto gli istituti della resistenza soprattutto a partire dagli anni 90 e qui oltre al lavoro fatto dagli istituti piemontesi vorrei che negli ultimi vent'anni hanno lavorato su questo elemento anche a partire dal ricomparto molto anche gli istituti liguri istituti toscani istituti sardi e vorrei ringraziare tutti i ricercatori che anche in una situazione di difficoltà negli ultimi anni di accessibilità di questo fondo ci sono impegnati oltre che gli amici che parleranno dopo di me che ringrazio per aver dato la loro disponibilità ad un intervento di merito anche in tempi molto stretti dicevo nonostante questi lavori c'è stato un forte dibattito che ha visto nella quantificazione del numero dei partigiani un elemento significativo anche dell'attribuzione di significato e di importanza a questo fenomeno ora che cosa ci dice il ricomparto già oggi già oggi con come ci diceva prima Pasquale un numero di schede inserite e controllate che è ancora del tutto Pasquale abbiamo una stima di 240.000 tra partigiani e patrioti riconosciuti che probabilmente ci porterà al di sopra della cifra stimata fino ad ora che ripeto oscilla compresi i patrioti tra i 300 e i 350.000 ora queste cifre una volta completata la mappatura cosa ci potranno dire ci potranno rendere non solo il numero complessivo dei partigiani riconosciuti ma anche un'articolazione significativa su questi partigiani dal punto di vista del genere della generazione della localizzazione della loro attività soprattutto del quando sono stati partigiani perché appunto quelle oscillazioni che parlavo prima potranno ottenere alcune risposte da questa documentazione ma come diceva giustamente Pasquale e Orsini ci diranno molto anche sulla memoria della resistenza perché capire dove quando e come sono stati riconosciuti i partigiani nell'arco della storia repubblicana è anch'esso un dato importante per la storia della memoria cui oggi ci stiamo impegnando due ultime considerazioni sicuramente come diceva già Barbara dobbiamo ricordare che questa che è la serie quantitativamente più completa e più ufficiale che possiamo avere sul riconoscimento dei partigiani non rende l'idea completamente di che cosa è stata la resistenza armata sicuramente le modalità di scelta di attribuzione cui ci parlerà tra l'altro tra poco Gabriele Danzato hanno sottostimato pesantemente sottostimato alcune categorie non solo le donne come già si accennava prima ma per esempio i partigiani stranieri presenti nelle formazioni che in molti casi sono ritornati a casa e non hanno chiesto il riconoscimento e ancora i partigiani all'estero su questo va detto che l'analisi fatta dai nostri ricercatori su le schede del ricon ha già di molto aumentato le stime fatte dal generale Murata già poc'anzi ricordate infine un'ultima considerazione la storiografia italiana è ormai concorde credo nel ricordare che la resistenza non è stata una guerra di popolo un'esperienza di massa ma un'esperienza di una minoranza una minoranza però molto larga e molto qualificata se noi sviluppiamo il concetto di resistenza secondo quanto la storiografia fa da ormai vent'anni dopo il libro di Pavone secondo le linee in cui gli istituti si sono impegnate dobbiamo dire che in una dimensione estensiva la resistenza oltre a comprendere i partigiani armati che come dicevo probabilmente risulteranno più dei 300.000 che avevamo stimato fino ad adesso deve comprendere molte altre persone i militari italiani dai gruppi motorizzati fino ai gruppi di combattimento più di 100.000 le truppe ausiliarie e paio sono quasi 200.000 i prigionieri di guerra e gli internati militari sono più di un milione per non parlare dell'inclusione delle protagoniste di quella che oggi noi chiamiamo resistenza civile si arriva complessivamente a quasi due milioni di persone ciascuna delle quali puoi fare riferimento a una rete relazionale sulla base delle indicazioni sociologiche che ci portano a pensare che ogni combattente avesse dietro almeno 4 persone raggiungiamo un numero che è davvero molto significativo soprattutto se lo confrontiamo con tutte le altre esperienze di discontinuità nella storia italiana se passiamo dai mille di Garibaldi a questi 300.000 ci rendiamo conto in modo icastico di quale è stato il salto di qualità tra il risorgimento e la resistenza quindi diciamo questa fonte anche dal punto di vista quantitativo ci può dire molto e ci può aiutare poi attraverso l'articolazione e l'aggregazione dei dati a stilare delle statistiche più precise su tutti i fenomeni a cui ho fatto riferimento grazie grazie Mirko per questa relazione che sottolinea anche la problematicità di fare delle stime realistiche ora la fonte ci aiuterà la stessa fonte va inquadrata storicamente perché se è vero che non tutti hanno chiesto il riconoscimento è anche vero che alcune qualifiche probabilmente non corrispondono a un effettivo impegno nella resistenza armata quindi bisognerà anche vedere come hanno lavorato le commissioni regionali nelle varie fasi quanto hanno più o meno largheggiato nel concedere la qualifica di partigiano combattente d'ora la parola a Gabriele Ranzato collega e amico di una vita ahimè ahimè nel senso che abbiamo molta vita passata indietro mettiamola così che ci parlerà di uno sguardo comparativo i riconoscimenti dei partigiani in Italia e in Francia prego allora bene le cose dette da Mirko Carattieri mi consentono con sollievo di tutti di accorciare abbastanza diciamo così l'intervento da me previsto perché appunto diciamo già come dire insomma introducono bene diciamo tutta diciamo così la l'aspetto quantitativa quantitativo di quei dei problemi però vorrei riprendere soltanto così come introduzione le una citazione di quello che scriveva Giorgio Rochard in appendice al secondo volume della storia della resistenza in Audi a proposito proprio di questo lui Rochard scriveva un censimento affidabile delle forze partigiane è praticamente impossibile per la loro fluidità le continue variazioni degli effettivi le difficoltà di distinguere combattenti e collaboratori spesso posti a rischi maggiori la mancanza quasi assoluta di fonti dirette e in quello stesso testo come ricordava anche Carrettieri appunto Rochard preferiva diciamo così riferirsi alle valutazioni che Giorgio Bocca aveva dato sulla sua storia dell'Italia partigiana ma non solo Rochard ma gran parte della storiografia italiana sulla resistenza si è mostrata scettica sui dati quantitativi proposti dalle commissioni del Compart che la cui attività sicuramente conoscevano semplicemente non prendendoli in considerazione e direi che appare molto probabile anche diciamo sulla base di alcune indicazioni che sono avute anche nell'intervento di Carrettieri e della Verruti considerando anche le lamentele delle stesse commissioni sulle pressioni e l'impossibilità di svolgere una cernita accurata che in definitiva una sovrastima del numero dei partigiani ci sia stata ma se consideriamo la complessiva documentazione che ci può offrire il materiale d'archivio del Ricompar il suo studio si potrebbe rivelare molto utile più che a una conta dei partigiani che poi non è diciamo una cosa così importante a una valutazione più certa del coinvolgimento del popolo italiano nella resistenza desumo questa possibilità dalle suggestioni che mi derivano dalla lettura delle considerazioni fatte sullo stesso tema dei riconoscimenti partigiani da una parte della storiografia francese che pur avanzando i dubbi sull'attività delle loro commissioni che lì erano dipartimentali quindi ben 90 hanno però giudicato che i loro partigiani censiti tra 200 e 230 mila sottostimassero non i partigiani ma l'insieme dei francesi che avevano partecipato alla resistenza ora probabili sovrastime italiane e sottostime francesi hanno in comune un criterio di valutazione che si potrebbe definire combattentistico ma hanno tuttavia la radice anche una diversa finalità decreti e leggi italiane avevano come principale obiettivo quello di valorizzare la lotta armata dando il massimo riconoscimento alla figura del partigiano combattente a cui erano devoluti alcuni vantaggi materiali anche se non particolarmente consistenti invece i primi decreti francesi e la legge successiva del 1949 assegnavano come massimo riconoscimento la carte de volontaire della resistenza quasi che come ha scritto Laurent Duzu in un suo articolo la concessione di quel certificato potesse costituire nel suo insieme una sorta di barometro della resistenza nel suo complesso ecco tuttavia nonostante la sua impostazione combattentistica o forse per attenuarne la rigidità il requisito che occorre ricordare che richiedeva la legislazione italiana per ottenere la qualifica di partigiano combattente era piuttosto inclusivo perché consisteva nell'aver militato per almeno tre mesi sui venti dell'occupazione tedesca del paese in una formazione armata partigiana o gappista partecipando a un minimo di tre azioni di guerra o di sabotaggio il che poteva significare sia la partecipazione a una lotta di grandissima intensità come scontri a fuoco con i tedeschi o sabotaggi distruzione di ponti e ferrovie sia un'attività da rischio più limitato come ad esempio cattura di uniti del fascista isolato tagli di fili telefonici o distruzioni di strade e così via inoltre l'impegno trimestrale minimo richiesta dagli aspiranti combattenti tendeva ad incrementarne il numero perché vi includeva non solo molti partigiani della penultima ora unitisi alle bande negli ultimi tre mesi quando la liberazione era ormai alle viste ma anche non essendo il trimestre prescritto necessariamente continuativo diversi dell'ultima ora ritornati nelle formazioni alla vigilia dell'insurrezione dopo precedenti saltuari e presenze la condizione della partecipazione all'azione di guerra e sabotaggio portò all'esclusione come già accennava Carattieri dal massimo riconoscimento di molti che avevano svolto anche per lungo tempo funzioni logistiche indispensabili si pensa appunto soprattutto alle staffette in gran parte donne e a volte molto più rischiose come ricordava Rochard di alcune di quelle richieste per il riconoscimento dei partigiani combattenti per alcuni degli esclusi il decreto istituiva un'altra categoria quella dei patrioti riservata a coloro che avevano militato in bande per un tempo inferiore ai tre mesi o che avevano compiuto solo una o due azioni ora non c'è dubbio che un rigoroso accertamento della militanza e dell'impegno dei singoli confrontati con quelli di un partigiano ideale avrebbe comportato delle lunghe procedure che erano in contrasto con l'urgenza di dare soprattutto nell'immediato dopo guerra appunto insomma delle soddisfazioni morali e magari compensi concreti a molti che durante la guerra di liberazione non si erano limitati a esprimere sentimenti antifascisti ma avevano dato anche qualche contributo effettivo appunto alla guerra di liberazione e c'era soprattutto la necessità se si voleva creare un nuovo stato fondato sui valori della resistenza di favorire la diffusione dell'idea che la resistenza avesse avuto un grande seguito popolare di cui i partigiani erano la cospicua e più ardimentosa espressione in Francia l'impostazione con cui i legislatori affrontarono la materia fu come osservava Viedi di Orca in uno dei primi saggi dedicati al Temia più propriamente militare che combattentistica perché il rilascio della carte equiparava i diritti del beneficiario a quelli dell'ancien combattant il reduce diremmo noi delle due guerre mondiali tra cui il più importante era il godimento di una pensione riservata a tutti i soldati di ogni grado e quindi a differenza che in Italia non soltanto ai mutilati e alle famiglie decadute e la caratterizzazione strettamente militare del riconoscimento francese trovava espressione soprattutto nella condizione imposta a coloro che vi avessero aspirato di avere combattuto nelle file della resistenza per almeno 90 giorni prima del 6 giugno del 1944 data come si sa dello sbarco degli alleati in Normandia per cui a chi si fosse battuto in qualche formazione ad esempio dal 1 aprile 1944 al 30 settembre successivo quello della deliberazione definitiva della Francia non sarebbe stato attribuito il che se per un verso può apparire un serio modo di escludere i partigiani dell'ultima ora ha però del paradossale se si considera che è proprio dopo lo sbarco dopo l'inizio della guerra sul suolo francese da parte degli alleati che le forze della resistenza furono chiamate al massimo impegno combattivo al loro sostegno e che la gran parte dell'attività del machi la lotta analoga a quella del nostro partigianato sui monti si concentrò proprio appunto in quei mesi è esemplare della rigidità del criterio adottato lo scambio di vedute che durante la discussione della legge al Parlamento vi fu fra un deputato comunista e il relatore della legge al deputato che aveva osservato quanto fosse ingiusto che a un uomo entrato nella resistenza il primo aprile quando nessuno sapeva dello sbarco fosse negato l'ottenimento della carta il relatore rispose è stato detto che gli interessati non potevano prevedere che lo sbarco sarebbe avvenuto il 6 giugno non c'è dubbio ma la Francia era occupata da molto tempo prima e quelli che avevano il senso del dovere non avevano aspettato di sapere se ci sarebbe stato o no uno sbarco per impegnarsi nella resistenza di fatto però l'ottenimento della carta sollecitata da un numero di aspiranti circa 600.000 non molto minore di quelli italiani non fu poi così difficile per i membri delle formazioni politico-militari della resistenza perché il più alto numero di riconoscimenti fu si può dire riservato ai partiti e ai numerosi movimenti aderenti al conseil nazionale della resistenza che presentarono le liste degli appartenenti alle loro formazioni militari a cui si unirono quelle delle organizzazioni di lotta locali che come si sa furono molto numerose nella resistenza francese estremamente parcellizzata e anche quelle di una miriade di reti facenti capo direttamente agli alleati benché sottoposta all'ulteriore verifica di una commissione militare indipendente quelle domande furono per la massima parte accolte mentre più severe furono in genere le commissioni nel sbagliare le domande presentate da piccoli gruppi o a titolo individuale inoltre la scelta di fatto di privilegiare le organizzazioni aderenti al conseil nazionale rese in Francia la concessione del massimo riconoscimento meno combattentistico di quello adottato in Italia poiché non veniva riservato solo a chi fosse battuto con l'arme o esplosivo alla mano ma in gran parte pure a quelli che avevano svolto servizi logistici o complementari propri di qualsiasi corpo militare è comunque evidente che i riconoscimenti non riflettono la partecipazione popolare della resistenza né in Italia dove in realtà non si è avuta questa pretesa né in Francia è vero che la lotta armata è stata la condizio sine qua non la spina dorsale della resistenza ma non certamente non la rappresenta tutta come ha scritto François Marcaux uno dei principali studiosi della resistenza francese tutti capiscono che il capo di una rete di una rete di sabotatori o il partigiano sui monti sono dei resistenti ma il segretario comunale che fornisce documenti falsi poliziotto che informa degli arresti imminenti la donna che garantisce i collegamenti è una lunga serie che adesso taglio è un interrogativo retorico al cui altrove Marcaux ha dato una chiara risposta scrivendo dietro una domanda semplice quanti furono i resistenti che anche abbiamo sentito si nascondono numerosi problemi e temi controversi qualunque sia la valutazione numerica proponibile occorre essere consapevoli che essa può dare un'idea di quella che fu la resistenza organizzata ma non certamente della resistenza come movimento che è stata in Francia di notevole ampiezza è una considerazione che credo valga in buona misura anche per l'Italia e anzi io credo che la sopravvalutazione del numero dei combattenti che si potrebbe imputare al ricompart sia derivata anche dalla volontà di includere tra di loro anche molti di quelli che pur non essendo combattenti nel senso stretto definito dalle norme erano stati collaboratori diretti o occasionali dei partigiani esponendo più volte a gravi pericoli credo in definitiva che sarebbe sbagliato considerare che molti di coloro che fecero domanda di riconoscimento senza avere veramente tutti i requisiti combattentistici richiesti da legge fossero degli opportunisti o degli imbroglioni è probabile invece che molti di loro volessero vedersi riconosciuto il contributo grande o piccolo combattentistico o meno che avevano veramente dato alla resistenza e credo che l'ampia documentazione che l'archivio del Ricompart mette a disposizione sia ripercorsa ponendosi più l'interrogativo di quanti furono i resistenti anziché soltanto i combattenti costituirà un importante strumento per la migliore conoscenza del contributo del popolo italiano alla sua guerra di liberazione grazie grazie per questa relazione anche che pone alcuni problemi teorici molto importanti che sono i resistenti che cos'è la resistenza civile che il rapporto c'è con la resistenza armata eccetto ultimamente la resistenza civile è stata al centro di molti studi bisogna però riconoscere che senza resistenza armata le stesse possibilità della resistenza civile sarebbero state molto più limitate d'ora la parola a Liliana Picciotto del centro di documentazione ebraica contemporanea che ci parlerà del ricompatto e censimento della resistenza ebraica in Italia prego grazie di questo cortesissimo invito con il CEDEC sto realizzando una ricerca sulla partecipazione dell'ebreo alla resistenza cercheremo di capire innanzitutto chi sono i loro nomi che città abitavano che tipo di famiglia avevano che educazione avevano ricevuto sotto che bandiera politica hanno militato se hanno avuto deportati in famiglia e che cosa ciò abbia significato per loro in termini di disperazione e di reazione quali sono quali insomma i moventi per tale scelta e quale fu l'occasione contingente per unirsi alla resistenza e quale la ragione di lungo periodo parto dalla constatazione che la resistenza ebraica nei vari paesi occupati sotto sotto occupazione nazista è stata molto varia con caratteristiche che assomigliano molto di più alla situazione geopolitica locale che è la tradizione e l'educazione ebraica che hanno potuto avere o non avere in famiglia per alcuni paesi in cui la partecipazione fu massiccia e di gruppo come in Jugoslavia o in Francia c'erano interi raggruppamenti fatti esclusivamente dai ebrei e lì possiamo senz'altro accettare la definizione di resistenza ebraica mentre in Italia possiamo solo parlare di partecipazione di ebrei alla resistenza a livello di singoli e ciò innanzitutto a causa del numero obiettivamente esiguo di cittadini ebrei si parla per il periodo in questione di non più di 40.000 persone compresi vecchi e bambini quindi una goccia nel mare della popolazione ma che senso ha studiare la partecipazione degli ebrei al movimento di liberazione innanzitutto saremo in grado di confermare l'ipotesi sopraenunciata che si tratti di singoli nella resistenza senza nessun obiettivo particolare neanche di fronte alla gravissima situazione determinata se per loro ma solo per concorrere alla ricostruzione dell'Italia democratica poi sarà da confermare l'idea che mi sono fatta che sia a livello di CLN nazionale nazionale penso alle Ovaliani Umberto Terracini Emilio Sereni sia a livello di CLN locale locali il loro contributo sia stato molto maggiore rispetto alla loro consistenza numerica e poi un altro obiettivo di non poco conto da perseguire è di scardinare l'immagine che i mass media rimandano degli ebrei soprattutto insistendo così tanto sulla giornata del 27 gennaio come pure vittime della storia e non come soggetti consapevoli di storia questo discorso è troppo lungo e intricato da fare qui c'entra moltissimo la public history così come per converso l'uso pubblico della storia ora veniamo al metodo e alla straordinaria occasione che ci offre in fondo RICOMPART di conoscenza dei dati possiamo ora compulsare lo schedario per cercare di trarre da esso i nominativi che per semplice assonanza onomastica sembrano appartenere a cittadini ebrei siamo costretti ad usare il metodo onomastico perché non abbiamo assolutamente altro mezzo per procedere nomi tipo Morpurgo Levi Sonnino Arton Bonfiglioli e molti altri vanno soggetti a indagini approfondite per capire se si tratta veramente di cittadini ebrei mentre abbiamo cognomi come Donati Amati Colombo che potrebbero esserlo o non esserlo mi trovo nella fortunata situazione di avere una fonte documentaria per il confronto questa fonte è assolutamente straordinaria e vi dico qual è con le mie precedenti ricerche sui deportati e sui salvati avevo acquisito in fotocopia il CEDEC parlo di 30 anni fa reperiti in vari archivi comunali o prefettizi la maggior parte dei censimenti speciali degli ebrei quelli imposti dal governo fascista per meglio considerare l'entità numerica e la consistenza patrimoniale del gruppo di italiani che di lì a poco si era nell'agosto del 1938 sarebbero stati soggetti oggetto di persecuzione quei nomi risultato di quel censimento fascista sono quasi 60.000 e sono stati caricati sui database che è presso di noi presso il CEDEC ed è uno dei nostri più importanti strumenti di lavoro ora la prima attività sarà di mettere a confronto i due database quello tratto da ricomparte e quello frutto del censimento fascista per capire quali sono i nominativi da scartare e quali quelli da tenere sui quali iniziare lo studio sulla partecipazione alla resistenza sicuramente il primo dato che emerge subito potente è che non parleremo più di famiglie ma per la prima volta di singoli individui che hanno effettuato una scelta voglio ancora accenare ad un'ultima questione di ordine onomastico purtroppo è una delle questione principali da cui noi dobbiamo partire dalla letteratura si apprende che moltissimi partigiani erano figli di matrimonio misto in questo caso solo un genitore era ebreo e se era la madre ad esserlo il figlio aveva il cognome del padre faccio solo qualche esempio Giorgio Labò studente di architettura e gappista a Roma era figlio di un Enrico Morpurgo un altro gappista Lucio Mezzetti era figlio di una Ada Olper o Mario Pollarolo a Vercelli era figlio di una Maria Sacerdote perfino il capo delle bande esterne del fronte militare clandestino della resistenza il colonnello Ezio Di Michelis era figlio di un'Anna Maria Levi ora costruendo la ricerca sui resistenti ebreti racconto naturalmente anche di queste persone perché tutto sommato avevano metà della loro famiglia ebrea e questo qualcosa probabilmente ha contato la ricerca procederà poi con il confronto del nuovo database asseverato con nomi e materiali documentari e insomma andremo avanti con altri altri tipi di ricerche altri tipi di confronti uno del fondo archivistico più importante che dovremmo assolutamente confrontare con questo nuovo database che avremo fatto sarà quello conservato presso il CEDEC è un fondo archivistico abbastanza cospicuo fatto di circa un migliaio di fascicoli personali frutto di ricerche che furono compiute fin da lontano 1955 che sono sempre stati costitutivi dell'attività del CEDEC fino alla sua origine quindi nel giro di un anno spero collazionando le tre principali fonti ricomparto censimento fascista fondo archivistico CEDEC penso che avremo i dati essenziali per poter così cominciare procedere nella ricerca ora da una prima occhiata del tutto impressionistica a questo materiale consultato posso dire che il numero degli ebrei partecipanti alla resistenza se in termini assoluti non è alto è invece altissimo in proporzione al numero di componenti delle comunità ebraiche come ho detto prima stiamo parlando di circa 40.000 persone penso che i resistenti ebrei sparsi nelle varie regioni centro-settentrionali saranno forse intorno al migliaio poi naturalmente andranno fatti confronti statistici con il numero dei resistenti dei resistenti paragonato al numero di abitanti per regioni eccetera l'indagine numerica è molto importante come ci ha appena detto Mirko per ora posso dire che sussiste una perfetta corrispondenza dei numeri rappresentati dal fondo RICOMPART per quanto riguarda per esempio il Piemonte abbiamo 96.542 partigiani anche lì abbiamo il nucleo più cospicuo di partigiani ebrei un altro dato interessante che emerge chiaramente è l'età dei partigiani ebrei sembra sembrano essere molto più maturi dei loro compagni la media è nata tra il 1906 e il 1916 il che vuol dire che all'epoca dei fatti questi avevano gli ebrei avevano tra 27 e 37 anni dobbiamo dobbiamo ancora analizzare molto bene questo dato e cercare di spiegarlo probabilmente è legato alle ragioni della scelta partigiana che tra i giovani è stata spesso determinata dal rifiuto di sottoporsi alla leva della Repubblica Sociale Italiana movente non valido per la gioventù ebraica per ovvi motivi un altro dato da sottolineare è che nell'Italia centrale molti partigiani ebrei erano non italiani ma stranieri evidentemente si trattava di ex internati in campi di internamento confidati in condizione di libero internamento e sono quelli ebrei stranieri che si trovavano profughi in Italia in attesa di visti di ingresso in altri paesi e impossibilitati a lasciare il nostro paese a causa delle congiunture internazionali e che erano stati internati fin del giugno del 1940 voglio ancora notare un fatto che mi sembra straordinario si sono verificati decine di casi di partigiani fratelli fra loro o cugini insomma della stessa famiglia ne cito giusto qualcuno per esempio Silvia e Eugenio Elfer nel Lazio Bruno e Ruggero Colombo a Genova i fratelli Valobra addirittura sono quattro fratelli più due sorelle a Firenze il piccolo Franco Cesana il fratello maggiore a Bologna i fratelli Bruno e Gino Pinkerle a Trieste adesso vi risparmio ma ce ne sono veramente decine decine anche questa particolarità andrà penso attentamente valutata ultima considerazione la ricerca del CEDEC sarà a tutto tondo e cercherà di considerare non solo i partigiani in armi ma anche altre tipologie di fiancheggiatori e disobbedienti all'ordine costituito come i levasi dai treni o dalla prigionia o dai campi di internamento non so abbiamo un pacifico di consiglio a Roma che tenta di trovare bande partigiane fuori Roma non ci riesce torna a Roma ma è lo stesso da solo ruba una pistola e fa un attentato in una trattoria dove sedevano soldati tedeschi e poi quando viene arrestato comincia a tirar puni lui è un pugile di professione e fugge e fugge e poi considereremo ecco considereremo anche coloro che dirigevano partecipavano a organizzazioni assistenziali come produttori di carte false o distributori di denaro non so solo per fare un nome il giovane magistrato Mario Finzi che portava da Bologna a Firenze carte di identità falsificate oppure il bidello Goffredo Pacifici che accompagnava la frontiera italo-svizzera i ragazzi poi un bel giorno andando venendo e venne arrestato e deportato oppure quella giovinetta di 14 anni di nome Lea Löwenwirth mi piace nominarla che portò in salvo con mille sotterfugi e trucchi dal Belgio all'inizio e poi a piedi attraverso le Alpi giugendo da Firenze i suoi quattro fratellini ecco queste sono le prime considerazioni che ho potuto fare con l'inizio della ricerca CEDEC e spero di continuare con anche con la collaborazione di tutti e ringrazio soprattutto per il fatto che prima ancora della pubblicazione mi è stato consentito di poter consultare i fondi ricca grazie grazie Liliana per averci offerto l'esplosente delle potenzialità che la forte ricca infatti incrociata ovviamente con altre fonti in questo tasso ma non solo in questo ha queste potenzialità come vediamo tutti molto interessanti procediamo con Isabella Insolvibile del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale Perruccio Parli che ci parlerà della riscoperta tra virgolette delle resistenze meridionali attraverso il ricomparte prego grazie buongiorno a tutti allora io ho preparato un veloce powerpoint per illustrare anche più rapidamente dei contenuti che sono di una ricerca diciamo preliminare sul sul ricomparte campania in particolare e grazie allo studio di Fabrizio Nacera sul ricomparte abruzzi molise diciamo che il discorso sulla resistenza nel mezzogiorno si è giovato anche degli studi fatti ormai da anni sulle stragi sull'elemento stragi quelli che vedete nella slide sono i numeri effettivamente significativi che l'Atlante delle stragi che è un progetto del nostro istituto Parri e dell'Ampi ha restituito a fianco c'è una citazione tratta dalla nostra Bibbia insomma per quanto riguarda le stragi che è il volume di Carlo Gentile che fa appunto riferimento alla presenza del fenomeno stragistico nel mezzogiorno e dal suo legame appunto che c'è con la presenza del fronte e la strategia stragistica applicata dagli occupanti per il mezzogiorno ovviamente dobbiamo parlare esclusivamente per quanto riguarda almeno gran parte del mezzogiorno dei tedeschi l'Abruzzo ovviamente per un'occupazione più prolungata nel tempo rappresenta un parametro di differenziazione Carlo Gentile fa riferimento alla criminalizzazione di episodi che si verificano sul territorio anche in presenza appunto di atti di semplice ribellismo civile o di insomma di una criminalizzazione di questi episodi che avviene appunto da parte degli occupanti che vedono resistenza anche in maniera preventiva sul territorio e rispondono a questi tentativi di opposizione da parte dei civili per lo più in maniera totalmente brutale ecco i numeri che dell'Atlante ci testimoniano questo così come ci testimoniano una insomma un fenomeno del genere le schede del ricompart le schede che vedete provengono la prima dal ricompart Abruzzo Abruzzo-Molise la seconda dal ricompart Campania e sono raccontano insomma una storia molto vicina a quello che sto appunto dicendo da una parte c'è la vicenda di Domenico di Gregorio è una storia tra le tantissime ricostruite da Fabrizio Nocera nella sua tesi di dottorato che verrà presto pubblicata Domenico di Gregorio venne ucciso perché i tedeschi interpretarono sto citando come atto di resistenza il fatto che questi non avesse aperto loro la porta nel momento in cui loro tentavano rientrare nella sua abitazione probabilmente per saccheggiarla il contadino era affetto era un contadino Domenico di Gregorio era affetto da sordità e probabilmente non li senti neanche bussare è evidente che un atto del genere non configurava alcun tipo di resistenza neanche di tipo di civile o disarmato ma che venne appunto per usare il termine di gentile criminalizzato questa criminalizzazione corrispose anche allo sfogo di una violenza cieca non è chiaro neanche come morì questa persona se venne appunto ucciso con colpi d'arma da fuoco o addirittura malmenato quella degli occupanti fu dunque un'estremizzazione funzionale nelle proprie appunto intenzioni alla pacificazione forzata dei territori non di rado preventiva perché si voleva evitare che la resistenza scattasse ancora prima che si potesse pensare appunto ad atti di resistenza di lotta armata ma appunto si voleva evitare assolutamente che i civili che le popolazioni dei territori riuscissero anche minimamente a organizzare qualche atto di opposizione all'estremo opposto di questa estremizzazione funzionale noi ritroviamo invece almeno per quanto riguarda il mezzogiorno in particolare quello che ho studiato più attentamente cioè quello campano i criteri valutativi della commissione ricomparte che erano estremamente restrittivi e rigorosi la scheda che vedete del ricomparte campania è relativa a una donna una signora a una 52enne che durante le quattro giornate di Napoli che sono l'evento che la commissione considera cuore della resistenza campana intervenne contro i tedeschi nel momento dell'insurrezione della popolazione non usando un'arma da fuoco ma appunto utilizzando ciò che aveva a disposizione nell'area in cui si muoveva cioè dei mattoni probabilmente dei resti di edifici danneggiati dai bombardamenti non considerando minimamente l'eroismo di questa di questa donna ecco la commissione ritenne che non avendo usato un'arma regolamentare non potesse essere riconosciuta neanche patriota questa era la stessa commissione e ci tengo appunto a precisarlo che però non esitò a riconoscere partigiani combattenti caduti due illustri protagonisti secondo appunto la ricostruzione diciamo canonica delle quattro giornate come i giovanissimi Gennarino Capuzzo undici anni e Filippo Illuminato due medaglie d'oro al valore militare rispettivamente di undici e tredici anni effettivamente nella ricostruzione o almeno nella motivazione delle medaglie questi due giovanissimi avevano usato armi regolamentari cioè avevano utilizzato si dice delle bombe a mano contro i tedeschi e di conseguenza vennero riconosciuti per le donne ovviamente il parametro del regolamentare divenne un fattore di fortissima discriminazione lo ha già detto Barbara Berruti lo hanno detto lo hanno detto in altri ma questo ovviamente non funzionò soltanto per le donne il ricomparto il ricomparto meridionale ma credo che sia un discorso diciamo ampliabile ad altri territori nazionali ci racconta moltissime di queste storie di resistenze fatte in modo diverso ma ugualmente efficace ed importanti nel contesto generale ad esempio questa scheda appartiene a una signora di Ottaviano che è un paese un comune insomma in provincia di Napoli che ancora prima dell'8 settembre nel luglio del 43 organizzò o almeno partecipò a una piccola protesta del tutto spontanea contro l'installazione sul proprio territorio di alcune batterie tedesche la la signora venne arrestata insieme a un'altra cittadina avevano erano due donne del popolo scrive il verbale dei carabinieri vennero arrestate perché questo verbale che appunto è riprodotto a fianco almeno in sua parte all'epoca ecco non si poteva neanche parlare di lotta di liberazione di conseguenza i carabinieri tennero a far presente alla commissione campana quando questa lavorò dopo appunto alla fine della guerra che le signore avevano violato la legge in particolare avevano violato la circolare roat che quindi a loro parere non dovessero assolutamente una solo di loro fece richiesta di riconoscimento essere avere alcun tipo di qualifica ma anzi insomma erano appunto state arrestate e liberate dopo la liberazione comunque la signora Liguori ottenne il riconoscimento di patriota come vediamo funzionarono dei meccanismi che noi dovremo appunto tenere di cui dovremo tener conto nell'utilizzazione del ricomparto e secondo me è molto importante questo appunto da una parte l'interpretazione è estremamente ampliata strumentale senza dubbio di cosa fosse resistenza da parte dell'occupante e dall'altra parte quella estremamente eccessivamente restrittiva soprattutto forse ma dovremmo verificarlo al sud dove si era ansiosi di dimostrare al resto del paese di aver fatto la propria parte e di averla fatta forse allo stesso modo rispetto al centro nord del paese sebbene ricomparto sia conservi in sé le fonti che ci raccontano appunto la lotta armata secondo me è un'ottima fonte appunto anche per ricostruire altre forme di resistenza innanzitutto appunto la citata e molto studiata resistenza civile faccio riferimento ad altre due vicende sempre di donne un po' in maniera casuale lo ammetto ma anche un po' in maniera restitutiva ecco per queste figure assolutamente dimenticate tralasciate anche nelle ricostruzioni più celebrative degli episodi resistenziali sempre partendo da ricomparto Campania e da ricomparto Abruzzo grazie agli studi di Nocera la prima scheda è relativa alla signora Filomena Gerundo la signora viveva a Terzigno che è un paese del Vesuviano e i tedeschi la scoprirono le scoprirono appunto perquisirono la casa e scoprirono la scoprirono in possesso di documentazione compromettente al loro paese vocabolari e testi per la cifra forse addirittura una ricetrasmittente quella quale comunicava si presume con gli alleati la uccisero in un vigneto poco fuori dal paese il 24 settembre 43 insieme alla sua collaboratrice domestica che si chiamava Gaetana Staffieri aveva 18 anni è un insomma un episodio di omicidio di strage che è nell'Atlante che è totalmente dimenticato lei venne riconosciuta partigiana combattente caduta la domestica caduta per la lotta di liberazione quindi vittima di strage l'altra figura è quella che ci viene invece dall'Aquilano è quella di Amalia Agnelli di cui vedete appunto la scheda che fu diciamo fondamentale per l'organizzazione del salvataggio degli ex prigionieri alleati che erano nei campi abruzzesi fino all'8 settembre Nocera scrive che la venne particolarmente coinvolta nell'assistenza agli ex prigionieri grazie alla sua fitta rete di conoscenze tra cui un'altra donna Rosa Arduini e Ettore Argano e che poi riferì di essere riuscita a dare alloggio a preservare da rastrellamenti e a rifornire di viveri indumenti e beni di prima necessità un gran numero di ex prigionieri la signora venne riconosciuta patriota nonostante fosse un elemento di spicco del gap dell'Aquila il ricomparto ha permesso a Nocera di approfondire moltissimi di questi episodi ma anche molti episodi di strage che presto includeremo nell'Atlante che al momento ancora si stanno approfondendo emerge per l'Abruzzo e per il Molise quello che ha riscontrato anche Gianni Cerchia per molta parte della Campania c'è un universo variegato di violenze innescate da una situazione diffusa di ribellismo civile rifiuto di obbedienza agli ordini di reclutamento consegna di beni o sfollamento reazioni ad atti di violenza contro le donne ma anche sabotaggi danneggiamenti alle strutture utilizzate dagli occupanti assistenza capillare e organizzata a ex prigionieri fuggiti dai campi e soldati sbandati insomma una situazione simile ad altre aree d'Italia e ormai diciamo definitivamente provata anche per il mezzogiorno io credo che la difficile valutazione della resistenza meridionale dipenda anche dal fatto di aver voluto dimostrare di essere quello che tempi e spazi della situazione storica non avevano ovunque reso possibile dimenticando però episodi come quelli appunto che diciamo un paio di quelli infatti di cui ho fatto l'esempio quindi disprezzando diciamo sottovalutando quella che era la resistenza civile l'utilizzazione del ricomparto per le regioni meridionali ci dice innanzitutto che la declinazione restrittiva di tale fenomeno veniva proprio dalla resistenza stessa cioè dalle categorie che le commissioni utilizzarono applicando la normativa le prime vittime furono le donne ma non soltanto ma non soltanto loro questo è uno schema della commissione campana che ho messo qui solo per raccontare come tutti i membri della commissione campana provenissero dall'evento quattro giornate cioè la commissione campana considerò praticamente soltanto l'insurrezione napoletana il ricomparto ci aiuterà a decostruire alcune immagini della resistenza del meridione cioè quella degli scognizi quella della militarizzazione delle figure femminili ma anche forse quella della pure vittima ecco io ho riscontrato questo nel primo studio che ho potuto fare sulle fonti quello che rispondeva i richiedenti ritenevano di dover dimostrare una propria un proprio ruolo attivo nella lotta di liberazione dei territori diciamo una sorta di contraddizione una sorta di messa in crisi di quello che oggi è invece il parametro più importante che è quello che noi definiamo paradigma vittimario ho riscontrato una forte presenza di paradigma antivittimario anche coloro che facevano richiesta per i caduti di strage tenevano moltissimo a dimostrare una certa partecipazione attiva agli eventi da parte del caduto e quindi a non farlo riconoscere esclusivamente una vittima ecco forse è questa la ragione ma lo dovremo appunto approfondire del perché venne scelta quella strana definizione per le vittime di strage cioè quella di caduti per la lotta di liberazione io credo in conclusione e concludo con questo che una fonte che ci racconta tanta lotta armata sarà fondamentale per ricostruire anche quello che apparentemente nega cioè la resistenza civile la resistenza disarmata tutte le varie forme di pluralità della lotta di liberazione che noi oggi riconosciamo a pieno titolo grazie 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 a Isabella insolvibile anche per aver dimostrato il rapporto che si può istituire ancora una volta tra i rincomparte e altre fonti in particolare l'Atlante delle strage e poi per aver messo al centro della sua relazione proprio la questione di gendere cioè il fatto che queste qualifiche spesso sottostimavano l'apporto pericoloso e fondamentale delle figure femminili Fabrizio Nocera è già stato citato adesso della insolvibile conclude questa serie di relazioni con un intervento sul ricompartere le ricerche locali i casi di Abruzzo e Molise mi è passo di capire che la sua tesi di dottorato prego non c'era dovresti quasi attivare il microfono Fabrizio in realtà risulta attivo però non lo sentiamo vediamo il suo ha condiviso il suo video la condivisione un attimo Fabrizio mi è dubbio che non ci senta proprio ok non lo vedo più si è disconnesso il bello il bello della diretta direi l'ultimo intervento recuperiamo non c'era adesso vediamo quando si riconnette chiedo se qualcuno ha il contatto telefonico magari se lo può se lo può raggiungere Isabella Barbara sta chiamando grazie e cerchiamo di capire appena poi ma è proprio si è proprio disconnesso quindi era avuto un problema tecnico ci sta riprovando gli è saltata la connessione proprio ora ha detto di aspettare un minuto e poi adesso aspettiamo un attimo un attimo un attimo un attimo un attimo un attimo ancora non lo vedo evidentemente non riesce a vederlo no non è non lo vedo non ha ancora fatto richiesta di accesso quindi tanto eventualmente provo a raggiungerlo io anche nel frattempo non so se magari può essere utile che noi togliamo il video no non credo serva a niente ma per il momento che se proprio non riesce a magari dopo vediamo se vediamo che la connessione magari è un po' faticosa sì Mirko è un buon suggerimento per alleggerirla però c'è proprio credo un problema forse proprio a riconnettersi lui adesso provo a chiamarlo anch'io al telefono e se no dobbiamo chiudere tanti adesso vediamo un attimo aspettare ancora un po' magari potrebbe registrarlo e lo mettiamo sì sì questo si può fare mi dispiace perché ci siamo scambiati molte opinioni sulla cosa ma non i contributi quindi se no lo leggevo io mentre lo attendiamo mentre lo attendiamo possiamo ricordare che la sua ricerca ha vinto due premi non uno sì il Matteotti inedito e l'acqua inedito l'acquistoria inedito gratulazioni davvero vabbè sentite mi pare che questi problemi non riescono a rispondere neanche al telefono non si risolvano quindi io darei la parola alla dottoressa Reale che ha aperto quest'iniziativa perché la possa anche chiudere con dopo anche le relazioni scientifiche dottoressa Reale la ringrazio professore e ovviamente ringrazio tutti di questo compito di chiusura dopo aver aperto io mi sento quasi indegna perché sono mi trovo in questa situazione di direzione dell'ICAR ad aver ereditato un progetto così importante che però riesco a conoscere bene in questo momento quindi effettivamente il ringraziamento va a tutti voi in particolare all'ex direttore vitali e mi sembra che questa giornata che personalmente mi aveva procurato un po' di ansie perché il collegamento del direttore generale avvertito all'ultimo eccetera eccetera gli altri impegni che invece in realtà sia stato sia andato bene ecco se posso osare perché gli interventi sono stati tutti di elevatissimo livello molto interessanti mi dispiace molto che quest'ultimo stia rischiando di saltare per questi problemi però tutti quelli forse c'è lo abbiamo ah e allora guardate ho fatto bene bisogna dirle le cose l'hai evocato e si è palesato perfetto ecco ecco attiva il microfono non ti sentiamo Fabrizio devi attivare il microfono sì ok speriamo mi sentiate vi chiedo scusa ovviamente per per i problemi e mi dispiace l'importante che siamo riusciti in qualche modo a a riconnetterci bene allora io volevo far vedere non so se vedete lo schermo al momento no ok va bene adesso fa non fa nulla vediamo un attimo di parlare del appunto del 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 ricompartimento adesso lo vediamo ah perfetto perfetto e delle mie ricerche che scaturiscono appunto come ha detto Isabella che ringrazio mi ringrazio Mirko per la partecipazione e l'istituto che scaturiscono appunto dal mio dottorato di ricerca svolto nell'università degli studi del Molise sotto la guida del professor Giovanni Cerchia diciamo che io ho messo le mani in pasta al al proprio al fondo e ringrazio per questo anche i funzionari dell'archivio centrale dello Stato che mi hanno dato questa opportunità e parliamo subito del ricomparto Abruzzo ossia la consistenza e in che cosa è composto la parte dedicata all'Abruzzo e ovviamente anche al Molise perché eravamo una regione unica sino al 1963 bene è formata da tre parti gli schedari che abbiamo anche potuto ascoltare non saranno in questa fase messi online ma diciamo mi sono portato avanti con il lavoro perché mi sono preso la briga di costruire un database personale dal quale partire per il mio studio di ricerca e ho digitalizzato circa 10.500 nominativi la scheda l'avete potuta vedere prima la scheda dell'Abruzzo fortunatamente è molto molto completa e circa 8.000 partigiani oltre 2.500 patrioti e circa 1.000 tra caduti feriti e mutilati perché c'è un altro schedario e questo è stato fatto soltanto per l'Abruzzo ossia quello proprio dei caduti poi ci sono i fascicoli delle bande che per quelli che ho potuto in qualche modo accedere io parlano di oltre 90 bande distribuite per le 5 province 4 dell'Abruzzo e una del Molise e poi i fascicoli personali che è un'altra parte consistente che ho potuto riprodurre soltanto parzialmente ma non è interessata al mio lavoro di ricerca che cosa in qualche modo voglio fare un sunto del mio lavoro ho ricostruito soltanto la storia delle bande partigiane che hanno operato in tre province cioè l'Aquila Chieti e Campobasso e ci sono state 57 bande in questi territori di cui 41 per l'Aquila 14 per la provincia di Chieti e una per la provincia di Campobasso ho inserito nel mio studio anche una della provincia di Pescara perché mi sembrava che avesse assolutamente attinenza con le province limitrofe un'altra cosa da considerare è l'ispirazione politica perché ovviamente alcune hanno dichiarato nei loro memoriali l'ispirazione da cui partiva la banda e come possiamo vedere insomma soltanto alcune hanno avuto un'ispirazione politica in prevalenza le comuniste e una socialista due vicine al partito d'azione una di ispirazione mazziniana una pluripartitica e una apolitica e veniamo anche una cosa da studiare interessante la radice del nome e per quanto riguarda l'Abruzzo c'è stata una triplice radice ossia il nome come è venuto fuori nome che poi è stato anche cambiato dopo ovviamente il riconoscimento della banda perché per esempio ha avuto il nome di un caduto caduto che anche durante la fase resistenziale è avvenuto all'interno della banda ad esempio la banda Porfirio la Molisana l'unica Molisana oppure la banda Giovanni di Vincenzo che è una banda appunto abruzzese molto molto importanti che ha preso il nome di un caduto e anche qui c'è una curiosità da dire Giovanni Vicenzo si chiamava questo giovane di Sepino tra le altre cose Molisano che è caduto durante un'azione di combattimento poi un'altra radice c'è il toponimo del luogo esempio Conca di Sulmona Rapino e così via oppure un nome che provenisse da un acronimo a diffusione nazionale o nome di un personaggio pubblico esempio CLN L'Aquila oppure Banda Matteotti ho ricostruito anche sulla falsa strada diciamo dell'Atlante delle stragi ho cercato di ricostruire con Google Heart la composizione la dislocazione delle bande in queste tre province quella azzurra che potete vedere è la linea Gustav quindi questa è la dislocazione abbastanza capillare e che fondamentalmente era vicino erano delle bande molto legate al territorio ma poi vedremo prima link che voi potete vedere e poi ovviamente può essere diffuso cliccando sopra quelle stelle si ha anche una piccola storia delle bande e questo ovviamente può essere uno spunto per un lavoro futuro quando in qualche modo saranno effettuati i vari studi anche sulle carte delle bande e quindi non solo sugli schedari dei partigiani ma veniamo ai numeri perché come vi dicevo dal momento in cui dal momento in cui ho digitato tutte le schede del Ricomparto Abruzzo ho potuto trarre anche alcune sunti alcune indicazioni che credo siano importanti anche per studi futuri si parlava prima appunto della partecipazione femminile alla resistenza bene innanzitutto diciamo che ci sono stati oltre 7600 partigiani riconosciuti e oltre 2400 partigiani riconosciuti in Abruzzo e in Molise e potete vedere come la partecipazione femminile come è ovvio pensare è stata più importante per quanto riguarda le patriote 10% rispetto a un 7,7% però sono numeri anche importanti per la considerazione che allora si aveva del genere dei femminili e di quello che in qualche modo poi hanno rappresentato la lotta al femminile in questi in queste regioni in questi territori un'altra importante cosa da considerare sono i partigiani in divisa e qui vediamo circa un 40% dei partigiani totali provenivano ovviamente da un'arma da un corpo i cosiddetti sbandati che poi vedremo essere fortemente radicati al terreno e la stragrande maggioranza di coloro che poi hanno deciso di appunto essere sbandati ma formare molto spesso delle delle bande partigiane e esserne anche in qualche modo comandanti la maggior parte quasi la maggior parte delle bande ha avuto un comandante ovviamente dell'arma l'88,5% proveniva dall'esercito l'altra arma più importante carabinieri e poi così via aeronatica marina finanza e altri corpi questo grafico questa torta in qualche modo ci fa capire come poi fondamentalmente i cosiddetti sbandati siano tornati prevalentemente nei territori di appartenenza di residenza tant'è vero che l'89,4% dei partigiani riconosciuti in divisa erano nati appunto in Abruzzo e Molise quindi hanno combattuto all'interno del proprio territorio soltanto il 10,6% invece proveniva da altri territori regionali un'altra cosa importante da dire è quella appunto dell'essere radicati nei propri territori e qui possiamo vedere come fondamentalmente ad esempio per i patrioti il 70,9% di tutti i patrioti proveniva dalla provincia dell'Aquila e poi così via le altre province che ho considerato e un'altra cosa di cui si parlava era appunto l'età e una cosa che mi ha colpito molto è che oltre il 42% di queste persone aveva un'età giovane se non giovanissima se noi vediamo dai 15 ai 25 anni oltre il 42% dei partigiani sempre riconosciuti e conteggiati perché purtroppo non tutti avevano nelle proprie schede l'età da cui la data di nascita scusate da cui ho potuto poi desumere l'età erano giovani e giovanissimi se noi consideriamo fino ai 35 anni passiamo circa un 70% dei partigiani aveva un'età molto giovane fino ai 35 anni all'8 settembre 43 l'età media femminile era più alta rispetto a quella maschile 31,8 rispetto a un 29 e circa e 5 circa di età si parlava prima anche dei partigiani riconosciuti che provenivano dall'estero parlava Mirko proprio di questo bene c'è stata anche un c'è stato anche un riconoscimento di queste persone ovviamente non numeri importanti però già numeri da considerare soprattutto vedete provenienti dagli Stati Uniti poi Argentina Francia Croazia e così via parliamo ovviamente di poche centinaia di persone e vengo alle conclusioni perché insomma mi permetto ovviamente di fare delle considerazioni avendo studiato approfonditamente il fondo il fondo Abruzzo almeno per i territori di cui vi ho citato questo portale credo che sia fondamentale ma come la scheda è fondamentale però credo assolutamente ma è stato già detto da chi mi ha preceduto che la scheda è un punto assolutamente di partenza ma già la scheda di per sé perché attraverso le carte io poi ovviamente attraverso i documenti ho rimaneggiato molto il mio database quindi è da considerare fino a se stessa ma ovviamente è passibile di molte moltissime modifiche quindi ripeto come punto di partenza fondamentale ma assolutamente non di arrivo tanto è vero che queste schede hanno bisogno di un aggiornamento costante e ovviamente credo che questo è stato assolutamente previsto proprio perché io nel mio lavoro ho avuto la necessità di aggiornare costantemente il mio database in base ovviamente ai documenti la necessità della catalogazione del fondo perché ovviamente la resistenza si può scrivere soltanto una parte di essa con le schede ma c'è necessità di catalogare tutto il fondo per le difficoltà che io ho avuto nel reperimento e ripeto ringrazio i funzionari che mi hanno messo a disposizione ma a tutto oggi io non ho la contezza della resistenza della consistenza del fondo abruzzo ovviamente ho fatto tutto quello che ho fotografato tutto quello che mi veniva mi veniva fornito quindi ma questo l'abbiamo già preso stamattina che comunque stanno provvedendo i funzionari a catalogare il fondo e credo sia di fondamentale importanza per lo sviluppo degli studi che si possono fare sul fondo stesso che cosa ho potuto dedurre dal mio studio assolutamente ancora va bene assolutamente che è stato un partigianato molto radicato al territorio di nascita e lo abbiamo visto una forte presenza dei partigiani in divisa un'importante presenza femminile perché 7,7 10% sono da considerare da prendere spunto per altro altro studio e c'è da dire che c'è stato ho visto poche connessioni con con le bande tra di loro ovviamente la resistenza in Abruzzo e Molise ha scontato il fatto di essere una resistenza abbastanza prematura subito dopo l'8 settembre si sono formate le bande c'è stato poco scarso o quasi nulla collegamento con il CLN cosa che comunque le altre bande e ovviamente con lo svolgersi della guerra e con la liberazione poi dei territori si è avuto le altre bande hanno avuto la fortuna di avere un appoggio col CLN nazionale però tutto questo in qualche modo ci deve far riconsiderare cosa che ha detto anche Isabella che fortunatamente e le carte ce lo dimostrano i documenti ce lo dimostrano anche in questi territori marginali del del meridione c'è stata un'energetica attività partigiana con scontri a fuoco e sabotaggi da parte dei tedeschi concludo se ho anche soltanto 30 secondi cioè la storia si fa è fatta di episodi e vi volevo far vedere questo passo tratto da Aldo Rasero che parla della banda Giovanni di Vincenzo come fondamentalmente si sarebbe potuta scrivere un'altra resistenza con diciamo uno sviluppo più importante del mezzogiorno se solo il dascenso uno capobanda della banda Giovanni di Vincenzo non avesse sbagliato ad individuare la vettura sulla quale viaggiava Kesselling e questo passo dice verso le 22 e 30 passa un'autovettura con due o tre militari a bordo poi una seconda autovettura e infine una terza di grossa cilindrata il dascenso pensa che sia quella che ospita l'alto comandante tedesco e fa aprire un fuoco violento contro di essa prima che i tedeschi possano riprendersi dalla sorpresa i partigiani lanciano bottiglie incendiare e bombe a mano e mentre si allontanano scorgono i bagliori delle fiamme dell'autovettura e di un autocarro che tamponata l'autovettura si è incendiato a sua volta il dascenso verrà poi a sapere che Kesterling viaggiava sulla prima autovettura di piccola cilindrata e che per effetto del violento attacco a fuoco sono morti cinque ufficiali tedeschi questo per dire che se avessero scelto la prima autovettura da colpire Kesterling avrebbe avuto un destino differente e così la storia scritta per il mezzogiorno per la resistenza del mezzogiorno grazie per l'ascolto grazie grazie a Fabrizio Nocera per questo primo esempio di come si può utilizzare il fondo in una ricerca già compiuta vi darei ora la parola a Elisabetta Reale questa volta per concludere veramente la nostra giornata grazie professore io mi fa molto piacere che abbiamo recuperato anche questo ultimo intervento che ci ha dato proprio una fotografia direi geografica dell'Abruzzo di quella zona quanto appunto a questi argomenti ho appena scritto nella chat ecco quello che mi ha appena comunicato Pasquale Orsini che si tiene in continuo aggiornamento che sono ben 106 le persone che si sono registrate che dire io chiuderei qui perché questo è un segnale più che più che confortante e incoraggiante a continuare su questa su questa strada è stato percorso un buon tratto ma come abbiamo capito c'è ancora molto da percorrere e non possiamo che continuare così da archivista mi fa piacere l'ultima cosa che dico che sia stata posta anche l'attenzione sulla delicata operazione della struttura della banca dati perché tenere insieme tutti gli elementi questa diciamo è un po' perdonate l'orguglio della categoria è tipica degli archivisti questa capacità di analizzare sintetizzare quindi sicuramente c'è stato un apporto ma come c'è stato l'apporto di tutti di tutti voi che avete partecipato quindi questa collaborazione che deve consolidarsi e proseguire io lascerei piuttosto a lei la parola perché invece il commento dalla visuale storica è giusto che sia suo e ringrazio tutti davvero tutti quanti per la collaborazione per tutto grazie grazie mi pare che la giornata abbia dimostrato da un lato l'importanza della fonte dall'altro l'importanza di una collaborazione tra storici e archivisti perché io sono convinto che la ricerca storica si fa prevalentemente o molto sulle fonti d'archivio e quando le fonti d'archivio sono trattate e sono organizzate secondo i criteri significi che l'archivistica prevede per gli storici è un grande vantaggio senza gli archivisti noi saremmo dei venditori di pubblico molto spesso con tutto il rispetto per capita per le fonti orali per la fabbricista e così via ma continuo a ritenere che gli archivi siano fondamentali la fonte che abbiamo appena illustrato è una fonte molto importante credo che su questa si potrà costruire in futuro veramente una serie di ricerche che potranno innovare anche lo studio della storia della resistenza spero che vi possano essere fondi sia per proseguire nella catalogazione e inventariazione delle fonti d'archivi abbiamo visto che non tutto è stato versato quindi tanto speriamo che i versamenti continuino e poi soprattutto non tutto è stato catalogato perché la fonte il fondo è effettivamente enorme ma io spero che la sensibilità anche del ministro per questi temi e l'interesse dell'ICAR dell'Arcidio Centrale dello Stato e delle altre istituzioni del MIBAT consentano di andare avanti in un lavoro per il quale poi la rete degli istituti storici della resistenza è sempre disponibile a dare la propria collaborazione e il proprio contributo scientifico quindi ringrazio tutti quanti hanno contribuito sia questa prima messa in rete del del lavoro già fatto ringrazio tutti coloro che sono intervenuti oggi e vi do appuntamento a una prossima occasione magari per parlare di altre ricerche che partendo dalla nostra dal nostro portale possano portare elementi innovativi sulla storia della resistenza grazie arrivederci grazie professore siamo stati anche molto bravi a rispettare i tempi a quasi del miracoloso abbiamo sforato di poco l'ultima l'ultima cosa i più cari auguri per l'ormai prossimo Natale anche se sarà un Natale un po' particolare a tutti quanti e sicuramente cogliamo l'invito a un prossimo appuntamento anzi a diversi prossimi appuntamenti buon pomeriggio buona giornata a tutti e auguri salve arrivederci 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 grazie